Con un ritardo fisiologico di 12 minuti, quindi al di sotto del quarto d'ora accademico, possiamo iniziare questo incontro. E' veramente con grande piacere che accogliamo qua l'Università di Pisa e all'interno del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Comunità Organizzare e della Corruzione questa lezione, che in realtà non sarà una lezione. Abbiamo pensato insieme di dare una forma dialogica di incontro e confronto di opinioni sul tema appunto legato all'ultimo incarico istituzionale del dottor Presidente, non so quale qualifico di dare. Ah, professore, collega, perché ho scoperto che è anche docente di un corso di legislazione antimafia. No, si può fregiare, credo, a certe condizioni anche del titolo di professore, quindi... ma perché no? Quindi collega, professor Raffaele Cantone, che diciamo è soprattutto nella veste di Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, però vista proprio la tematica del Master, che ricorda il Tohanno, quindi diciamo questo rischio di simbiosi perversa tra la realtà della criminalità organizzata e quella della corruzione, come dire, già messa nella sua ragione sociale cinque anni fa, e le inchieste, le cronache degli ultimi giorni sembrano dimostrare, mafia capitale in primis, che insomma questo tipo di realtà criminale poi effettivamente dal punto di vista empirico trova ampie a sovrapposizione. Quindi ringraziamo davvero di cuore il dottor Cantone della sua presenza qua, che, come dire, visti i suoi impegni istituzionali, sappiamo comporta anche quello che gli economisti chiamano notevole costo-opportunità, quindi il sacrificio fatto per avere questa mattinata di lavoro, che peraltro prosegue rispetto a quello che è già stato un incontro stamattina alle nove esclusivamente con gli studenti del Master. E naturalmente proprio la sua esperienza di lavoro professionale, come dire, in qualche modo ci riconduce a questa duplice identità del Master, perché lo ricordiamo adesso presidente dell'autorità anticorruzione, ma come sostituto procuratore, come dire, il dottor Cantone si è occupato delle inchieste legate al clan dei Casalesi, tra l'altro, e anche a incursioni di quei clan in altre realtà territoriali, anche all'estero. Quindi è stato sicuramente un magistrato di spicco della procura antimafia di Napoli. Io, anche autore di una serie di volumi, io ricorderei soprattutto uno che è tornato incredibilmente di moda, dovrebbe diventare un long seller, se non ricordo male si chiama Football Clan, è sull'intreccio tra criminalità organizzata, corruzione e calcio, e anche qui con la preveggenza di chi sa leggere, e poi è anticipato quello che poi è un calciopoli 1, calciopoli 2, in attesa di calciopoli 3. Sono un grande appassionato di calcio. Questo aiuta, e quindi uno vorrebbe vederlo pulito. Però gli svizzeri ci hanno superato, forse, da questo punto di vista, perché hanno regolarizzato e costruito un sistema di corruzione al confronto del quale le cronache di calciopoli poi danno l'idea di una certa approssimazione artigianale. Quelli sono scientifici, sono precisi, sono rigorosi, no? Come... Diciamo, sul calcio, proprio perché... Partiamo dal calcio, partiamo dal calcio. Molte parti del mondo ci hanno superato. Forse nessuno sa che, diciamo, la vicenda più eclatante, più incredibile, di quanto la scommessa su una partita della nazionale africana, il topo contro... Ah, non funziona, allora usiamo questo. Venne fatta, venne organizzata una partita di calcio africana, il Togo contro non so quale altra nazionale. E su questa partita vennero fatte anche le scommesse. Si scoprì poi che il Togo non aveva mai avuto la nazionale e che quella era una partita fatta solo e unicamente per fare scommesse false. Poi devo dire, il scandalo delle scommesse non ha risparmiato anche la Finlandia, che è il notorio paese nel quale ci sono, diciamo, il più alto livello dal punto di vista della corruzione. In senso positivo, in Germania ci sono stati scandali molto significativi che hanno riguardato le serie minori. Sul calcio, devo dire, noi non abbiamo, tutto sommato, diciamo, non abbiamo la primazia. Forse l'abbiamo inventato noi. Il primo scandalo scommesse è quello di Conti, Rossi e del famoso fatto del 1978, poi sanato dalla vittoria ai mondiali. Ma un po' in tutti gli stati del mondo il tema si sta ponendo, soprattutto da quando si è sviluppato in modo incredibile le scommesse sulle partite. perché, passando dalla vicenda, diciamo, così scherzosa ai fatti più seri, il grave inquinamento ulteriore che rischia di essere letale per il calcio è le scommesse, soprattutto sulle serie minori. Dall'anno prossimo forse nessuno sa che si potrà scommettere pure sulle partite di serie D. Già adesso si può scommettere sulle partite di prima divisione, adesso mi pare si richiami di nuovo serie C, ogni anno cambiano i nomi, ma solo dal punto di vista nominalistico, la serie C. Realtà nelle quali, con un'unica scommessa, tu riesci a ottenere quando un anno intero non avresti mai ottenuto, perché tu potresti scommettere su una partita di calcio una cifra che non... per un'unica partita è una cifra che riguarda il bilancio di un'intera annata. È evidente che tu crei meccanismi nei quali fai grande spazio alla corruzione, giocatori mal pagati, spesso neanche pagati perché il calcio minore ormai non tira più, giocatori che spesso al limite sono in qualche caso alla fine della carriera e che hanno perso gli stimoli, le motivazioni. Questi meccanismi di per sé sono criminogeni, sono criminogeni e sono ormai presenti in tutto il mondo. Se noi non capiamo che l'attacco al calcio minore è il vero grande rischio che poi eliminerà il calcio, perché quello comunque è un serbatoio di interessi che per quanto ci riguarda è molto sentito nella provincia. Il calcio minore ha un seguito che numericamente forse non è significativo, ma spesso dal punto di vista degli interessi di Campanile è molto molto alto. Quello è un segnale di come alcuni meccanismi economici, la distorsione di alcuni meccanismi economici legali, perché ormai le scommesse sono legalizzate, ci iniziano per essere veri e propri incentivi alla corruzione, ai meccanismi corruttivi. Bisognerebbe eliminare le scommesse sul calcio minore, bisognerebbe eliminare anche le scommesse su fatti diversi dai risultati. Ormai si può scommettere su tutto, sul calcio d'angolo, sul numero di gol, sul fatto solo di segnare un gol da parte di entrambe le squadre. Tu potresti pessino barare ai fini del calcio, diciamo delle scommesse, senza incidere sul risultato. Il paradosso è senza incidere sul risultato. Io sto vincendo 4-0, ti faccio segnare e posso utilizzare quel meccanismo di scommesse che si chiama gol-goal. Questo finisce per essere un incentivo spaventoso ai meccanismi di illegalità nel sistema del calcio. Anche perché il danaro che ormai circola nel calcio si è ridotto moltissimo, è quello che può provenire invece dal sistema illecito, si è ampliato. Nella prima indagine di Cremona c'era un dato che emergeva in modo preoccupante. Un cittadino straniero, i famosi zingari, che poi zingari non erano, che vende in Italia con una valigia piena di euro da dover distribuire, che passò all'aeroporto con questa valigia piena di euro e che girava i campi per distribuire questi euro. Sono meccanismi sui quali ovviamente bisognerebbe avere il coraggio di fare scelte politiche che non possono essere neanche solo nazionali, perché sarebbe ridicolo se l'Italia domani vietasse le scommesse sulla Serie D e poi tu le puoi fare online da Singapore. Non servirebbe a nulla. Sui quali però bisognerebbe che ci fosse un accordo di tipo internazionale. Ma mi chiedo, ma se tutto quello che sta emergendo oggi riguarda la FIFA, che speranze abbiamo di poter convincere la FIFA a cambiare il sistema? Se per l'attribuzione dei mondiali, che sono uno strumento anche di grandissima capacità di presa politica, nel libro Football Clan noi cominciamo con l'episodio secondo me più incredibile la finale di calcio Argentina-Olanda, che è stata secondo me una finale farsa in cui venne fatta una finale semplicemente per fare una festa della dittatura argentina. Se quei sono i meccanismi diventa davvero difficile che ci sia una speranza di palingenesi, ma bisogna provarci, perché bisogna far capire che così facendo il giocattolo prima o poi finirà e ci troveremo in mano, un mondo come quello dell'Ippica. Ormai l'Ippica è morta, così come è morta la box. È una delle cause per cui questi sport sono morti e che sono diventati scarsamente credibili, perché tutti sanno che sono sport nei quali il risultato è assolutamente taroccato. Abbiamo dato il calcio d'avvio alla conferenza, proprio utilizzando la metafora calcistica proprio in senso, non come una metafora, proprio come un esempio di come la corruzione si può sviluppare e aggiungerei, già si è visto da questa prima analisi dei rischi che possono nascere da un'estensione del meccanismo delle scommesse, quindi dell'introduzione di questo tipo di facili contropartite monetarie laddove ci sono soggetti facilmente corruttibili che alla fine la realtà della corruzione, per quanto complessa, tra l'altro si adatta plasticamente alle diverse realtà e la corruzione calcio ha caratteristiche sue specifiche, diverse da quelle della corruzione degli appalti piuttosto che non urbanistica. E dall'altra ci dà l'idea che comunque esistono delle chiavi di lettura, cioè ci sono degli ingredienti, degli elementi ricorrenti che ci permettono in qualche modo di capire qual è il rischio e quali sono le dinamiche, i fattori che possono sviluppare e accrescere e accentuare questo rischio corruzione. Allora io vorrei, dopo aver fatto una precisazione che avevo dimenticato prima, per ragioni organizzative e per, come dire, massimizzare l'efficienza di questo incontro abbiamo pensato che ci sarà uno spazio alla fine per le domande che saranno però in qualche modo filtrate per evitare, diciamo, per ridurre al minimo i tempi, quindi chi vuole fare una domanda può scriverla, ci sono là i foglietti e poi, come dire, alla fine dedichiamo uno spazio alla lettura e alle risposte. No, stavo dicendo, l'altro volume pubblicato di recente si intitola Il male italiano, come liberarci appunto dal liberanos a corruzio, a malosi. Il male italiano richiama chiaramente l'idea di un'atologia, di un sistema afflitto da elementi patologici che in qualche modo ne investono proprio le capacità di riproduzione, un sistema politico, un sistema amministrativo, un sistema economico e imprenditoriale. Allora la prima questione che vorrei porre in questo mio ruolo, come dire, di assist, visto che stiamo nella metafora calcistica, io dovrei fare l'assist e poi toccherebbe al dottor Cantone quello di... Io cercherò di metterlo a porta vuota, poi vediamo cosa ne viene fuori. A volte si baglia che... Dunque, no, la questione che volevo porre è questa. Per misurare la patologia ci sono una serie di indicatori, patologie cliniche intendo, si misura la febbre e quindi si mette il termometro e si verifica se si supera la soglia critica che è 37 convenzionalmente e quindi se c'è questo tipo di indicatore forte, robusto e universalmente riconosciuto. Nel caso della corruzione non è così. Nella lezione che il dottor Cantone ha fatto prima agli studenti del Master ricordava come ci sia stata prima nella storia dell'anticorruzione all'italiana tutta una serie di organismi che avrebbero dovuto rilevare la corruzione. Ne ha citato uno in particolare che anche a me sta particolarmente caro, il SAET, Servizio Anticorruzione e Trasparenza, che doveva essere l'organo a cui in qualche modo si attribuivano le funzioni dell'ex alto commissario per la prevenzione della corruzione dell'illusion. C'è una lunga storia di organismi completamente inutili che si devono occupare di questi temi, ma nel caso del SAET secondo me si è raggiunto forse uno dei vertici inarrivati e inarrivabili. Perché oltre a essere inutile, ma questo spesso accade nel contesto italiano, il SAET pubblicò un rapporto, secondo me rimasto leggendario, in cui si sosteneva che a differenza di quanto sostenuto da qualche professore della questione morale, si poteva dimostrare con dati oggettivi assolutamente inoppugnabili la sostanziale integrità del sistema pubblico amministrazione. Il che peraltro è una tesi, come dire, che si può sostenere, argomentandola, non è una tesi peregrina voglio dire, però al di là dei toni che formano quelli adatti a un organismo istituzionale, c'era comunque il tentativo di isolare alcuni indicatori della presenza della corruzione in Italia, per dire che tutto sommato a noi il problema ci riguarda in misura molto inferiore a quello che invece altri indicatori sembrano segnalare e faccio riferimento a quelli ovviamente che ci collocano all'ultimo posto in Europa, in particolare indicatori di percezione della corruzione Transparency International, ultimi per livello di corruzione percepita, già con quella più alta, a pari merito, restiamo in questa cosa calcistica, quindi siamo ancora in lotta per la retrocessione, con Grecia, Bulgaria e Romania, siamo nelle maglie nere d'Europa e allora mi chiedo, anzi chiedo al dottor Cantone, dal punto di vista di questo osservatorio sicuramente privilegiato per quanto è un osservatorio che poi ha certe difficoltà operative che prima ci descriveva, qual è la sua rappresentazione del rischio della presenza, della diffusione, della pervasività del fenomeno corruzione in Italia? Cioè quanto questi allarmi che di tanto in tanto squillano e poi spesso richiamati da vicende contingenti, lo scandalo, gli arresti, come dire, ci devono indurre una reale preoccupazione e quanto invece ci sono segnali che magari un po' più confortanti. Devo dire che questo non è un assist, è una pluralità di assist, non saprei da dove cominciare a tirare sperando di non fare come un calciatore a me caro che ha sbagliato il rigore più importante della stagione, per cui diciamo sarò molto attento. Prima di tutto vorrei riprendere una cosa che tu dicevi, noi citiamo del tu, diamocelo pubblico, perché queste cose finte che ci diamo del tu fuori e ci diamo del lei pubblicamente sempre ritenute un po' strane. C'era una cosa che dicevi che volevo riprendere, che riguardava il tema calcio, che però credo riprenderemo in questa chiacchierata, le leggi criminogene. Cioè noi spesso ci preoccupiamo semplicemente delle prassi come fattori criminogeni, ma a volte anche le leggi o comunque le norme in generale possono essere criminogene. E la funzione diciamo degli studi della sociologia, degli studi in generale, dovrebbe essere quella di indicare gli effetti distorsivi delle leggi per provare a correggerli. Nel sistema degli appalti ne troveremo a morire, se riusciamo a parlare ne indicheremo qualcuna, però per esempio quella del calcio. Abbiamo legalizzato per motivi economici il sistema delle scommesse. Oggi noi vediamo quali sono le conseguenze. Ci dovremmo porre prima di tutto la domanda, ma davvero è conveniente economicamente tenere in vita il sistema delle scommesse. Abbiamo persino creato una malattia professionale che si chiama ludopatia, le cui cure sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ci dovremmo porre la domanda se per esempio c'è anche il costo benefici, se quella legge porta più vantaggi o più svantaggi. Sarebbe interessante se qualcuno cominciasse anche a preoccuparsi di capire quali sono gli effetti distorsivi delle leggi per provare a incidere, perché molto spesso noi siamo in grado e diamo colpa al legislatore, il quale però ha una conoscenza dell'attuazione delle leggi bassissima. Uno dei problemi principali del nostro livello di legislazione è quello che si chiama virra, la valutazione di impatto, che non viene mai fatta. Cioè noi dovremmo andare a distanza di imbaffare il tagliando alla legge e capire che cosa sta fatto male e soprattutto qual è l'impatto che sta avendo sul sistema. Questa non è una discussione teorica, questa è una discussione anticorruzione, nel senso che come funzionano le norme non è una discussione da accademici generica. Per il cattivo funzionamento delle norme o l'eterogenesi dei fini nell'utilizzo delle norme rappresenta il più grande aiuto alla corruzione. E passiamo ad un'altra delle questioni, diciamo, che pure mi piacciono moltissimo e mi affascinano moltissimo, gli indicatori. Io devo dire che noi siamo un osservatorio privilegiato fino a un certo punto, nel senso che noi l'attività di analisi delle cause della corruzione, che pure rientra nelle nostre finalità istituzionali, è un'attività che ad oggi non abbiamo proprio provato ad avviare perché abbiamo provato a cominciare a capire qual è lo stato dell'arte dell'attuazione delle norme. Noi abbiamo un osservatorio privilegiato soprattutto per verificare spesso che cosa la pubblica amministrazione fa davvero sul piano della prevenzione della corruzione o nel sistema degli appalti. Quindi un osservatorio che è indiretto rispetto ai meccanismi della corruzione, non diretto. E poi ti dirò che cosa penso. Ma diciamo il punto vero è quello di individuare i criteri che sono criteri realmente attendibili per stabilire il livello di corruzione di un Paese o di pezzi del Paese o di categorie e di ambiti professionali, sul quale non solo non c'è stato alcun investimento pubblico. La vicenda del SAT io credo è una delle vicende che andrebbe ricordato a pubblico ludibrio di un'operazione diciamo pseudo-culturale davvero e proprio minculpop perché quella fu, quel rapporto che fino a poco tempo fa ancora era sul sito della funzione pubblica, negava l'esistenza della corruzione però partendo da un dato insuperabile, i dati giudiziari. È da lì che dobbiamo partire. Perché il primo indicatore vero del livello di corruzione di un Paese sono i dati del sistema giudiziario e i dati del nostro sistema giudiziario ci pongono a livelli diciamo fra i più alti dell'Europa o del mondo. Se guardassimo i soli dati giudiziari probabilmente noi saremmo persino sopra la Germania o saremmo più o meno alla pari con la Finlandia. Un elemento di conoscenza come numero di condanne rispetto alla popolazione noi abbiamo, un cittadino italiano, le stesse probabilità di essere arrestato per i reati di corruzione di un cittadino finlandese, le stesse identiche. Questo è un dato, è un dato che ovviamente se tu valuti in modo asettico ti porta a dire che la corruzione non c'è. Ovviamente quella era un'opzione scientifica fatta in un certo momento storico politico, io vorrei ricordare chi era allora il ministro della funzione pubblica, chi ancora oggi nega che esiste la corruzione. Qual era però il dato su cui si fondava che non era del tutto sbagliato ed era preoccupante. Io sono andato a vedere i dati statistici delle indagini sulla corruzione nel periodo di Tangentopoli. Ebbene, c'è il momento nel quale in Italia si è fatto il più ampio uso dell'attiva giudiziaria diciamo in materia di reati di corruzione. Ebbene anche all'epoca c'erano alcune corti d'appello, i dati vengono aggregati in corti d'appello, in cui non c'erano praticamente indagini sulla corruzione o men che meno c'erano condanne. Se tu avessi visto quei dati statistici durante il periodo in cui c'era un livello elevato di corruzione, avresti detto che in alcune corti d'appello, fra l'altro quasi tutte meridionali, non c'era assolutamente indagini. Ed era il momento di maggior apice. Allora io credo che questo basta per dire che quei dati sono inattendibili, perché il primo punto è capire quali dati sono attendibili. I dati giudiziari non sono attendibili. Per una ragione, però, bisogna capire perché. Perché la corruzione è un fenomeno che si verifica, diciamo, che avviene per sua natura all'oscuro, è un fenomeno nel quale il tasso di denuncia è sostanzialmente inesistente, perché manca quella ragione tipica che giustifica la denuncia, il conflitto di interessi. Cioè, io ricevo un furto, è chiaro vado a denunciare, sono parte offesa, qualcuno mi prende a schiaffi, vado a denunciare perché ho ricevuto un danno, mi danneggia la macchina, vado a denunciare perché ho avuto un danno. Nella corruzione non c'è il danno, o meglio, danno lo hanno gli altri. Ma nella corruzione i due soggetti che si mettono d'accordo hanno tutti e due un vantaggio. Chi paga, diciamo, ha in cambio quello che si aspettava o la promessa di quello che si aspettava e chi ovviamente dà in cambio il danaro o le altre utilità. Quindi non c'è nessun interesse a farlo emergere. Questo per dire che i dati giudiziari sono scarsamente attendibili. Ovviamente sui dati giudiziari si possono fare delle rilevazioni statistiche, perché anche i dati giudiziari sono uno degli indici. Ma questo io credo ci consente di dire un altro aspetto, che è difficilissimo individuare ad oggi degli indicatori credibili del fenomeno della corruzione. Ed è ugualmente difficile stimare i danni della corruzione medesima. Il professore ma non ci sa. Noi abbiamo discusso di questa tesi anche in un altro dibattito che abbiamo fatto al corso per i magistrati. In Italia circola una cifra, quella dei 60 miliardi, la cui paternità non si capisce di chi sia. Questo è uno di quelle leggende metropolitane che assomigliano ai coccodrilli nelle fogne. Perché nessuno sa chi ha messo nel sistema questo dato dei 60 miliardi. La Commissione europea lo cita attribuendolo alla Corte dei Conti. Ma la Corte dei Conti nega di averlo mai detto. Per cui questo 60 miliardi come provento della corruzione non si sa chi li ha messi in mezzo. E vi dirò chi dice queste cifre. Dice stupidaggini, perché la corruzione non è quantificabile con cifre così precise. Si può dire un dato che va dai 30 ai 40 ai 50, ma bisognerebbe capire quali elementi sono presi in considerazione, per esempio quanto sono presi in considerazione gli effetti indiretti della corruzione di cui pure parleremo. Quindi secondo passaggio. Io credo che le cifre di valutazione degli effetti economici della corruzione siano molto difficili, quantomeno sul piano macroeconomico. Forse sui singoli sistemi è più semplice provare, ma sul piano macroeconomico del sistema chi vi dice che la corruzione ha effetto di danno di 60 miliardi vi dice una stupidaggine e a maggior ragione vi dice una stupidaggine chi dice che se recuperassimo quei 60 miliardi potremmo fare una nuova finanziaria, perché non c'entra assolutamente nulla il danno col recupero. Diciamo anche questa è un'operazione finta di chi fa disinformazione. Il vero problema è individuare indicatori che possano alzare il livello di alert nella pubblica amministrazione, cioè quelli che dovrebbero essere gli elementi spia in presenza dei quali bisognerebbe adrizzare le antenne e capire se quegli elementi spia dipendono da altre vicende o dietro quegli elementi spia ci sono fatti di corruzione. E quegli elementi spia potrebbero a loro volta essere rilevati come fattori per misurare davvero la corruzione. Ad oggi Alberto a me non risulta che ci siano studi seri in questo senso, perché tu sai che io sono molto prevenuto nei confronti delle indagini di trasparency, perché le indagini di trasparency sono indagini in cui io continuo a sostenere che il campione valutato non ha nessuna attendibilità certa dal punto di vista scientifico. È fondata su interviste in cui si chiede di fatto se tu pensi che il tuo paese abbia un elevato livello di corruzione. E noi sappiamo che in questo gli italiani hanno una capacità diciamo di farsi male superiore a tutto il mondo, per cui se tu vai una mattina a fare interviste alle signore che stanno facendo la spesa nel mercatino e vai a chiedere tu pensi che l'Italia sia un paese corrotto, io dico noi non avremo il 99%, hanno il 201%, allora questi meccanismi lasciano il tempo che trovano e sono meccanismi che finiscono anche spesso per essere in qualche modo anche, anche tu questo sai che è una mia idea, so che la pensi diversamente, riescono ad essere anche a volte economicamente utilizzati da soggetti che spesso ci sono dietro chi opera in questi settori della rilevazione dei dati, perché quando ormai si fanno i panieri per gli investimenti delle imprese all'estero, si fanno le valutazioni, i rating dei paesi, si inseriscono anche i dati che vengono fatti da trasparency, da organizzazioni analoghe. Questo per dirvi che io diffido moltissimo di questi dati e vi voglio raccontare un aneddoto di cui abbiamo già parlato con Alberto, sempre nel famoso corso dei magistrati. Io sono stato di recente a un incontro dell'Ocse a Parigi e l'Ocse aveva preparato una serie di documenti che aveva dato ai partecipanti e in questi documenti c'era uno studio che riguardava i rapporti tra fiducia nella politica e corruzione. Cioè avevano provato a fare questa valutazione, vediamo lì dove è più alto il livello di fiducia nella politica, qual è il rapporto con la corruzione? Questo grafico portava all'Italia al 90%. Ora, se voi mi chiedete se quel dato, se quel grafico ha, diciamo, di impatto, è credibile o no, io dico è assolutamente credibile. Se però voi verificate e quei dati vennero riportati immediatamente da tutti i giornali italiani, Ocse, Italia, paese più corrotto perché c'è meno fiducia nei confronti della politica. Se però poi guardavate, diciamo, chi aveva fatto questo grafico, cioè chi aveva fatto questa ricerca e soprattutto a quale anno si riferiva, trovavate una strana, diciamo, notizia. Prima di tutto l'aveva fatta una società privata, certo, una società privata attendibile, la Gallup seria, ma riguardava il 2012. Noi sbandieramo un dato del 2012 per ritenere che nel 2015 abbiamo un livello di rapporto fra politica e fiducia. Ovviamente anche qui nessuno sa i dati come sono stati creati. Allora, io mi chiedo e vi chiedo quindi al professore Vannucci, che ovviamente ha un approccio sociologico allo studio della corruzione molto importante, molto utile, se non sia il caso di cominciare davvero a lavorare seriamente su questi aspetti, non lasciando, diciamo, a soggetti in qualche caso improvvisati, spesso interessati e in qualche caso anche in mala fede, di fare queste classifiche che ci vedono in una posizione indecente. Se poi voi mi chiedete se io condivido quella posizione, purtroppo sì, ma la condivido sulla scorta anche a volte di sensazione di quello che emerge dagli spaccati che sono insuperabili, quelle delle indagini giudiziari. Io venendo ieri leggevo l'ordinanza, ho cominciato a leggere l'ordinanza cautelare di Roma e il livello e lo spaccato che emerge nella capitale d'Italia, nella città, dal punto di vista amministrativo, ovviamente più all'attenzione della nazione, anche dal punto di vista mediatico. È uno spaccato devastante. Lì ci sono i consiglieri comunali che rivolgono a Buzzi e vanno a chiedere, scusate, ma voi come vi comportate con i consiglieri comunali? Cioè quando gli date? Allora, questo è un meccanismo che la dice a lunga sul livello di corruttibilità del sistema, ma ovviamente non abbiamo fatto un passo in avanti per capire come avremmo potuto lavorare sul piano degli alert e soprattutto non abbiamo fatto un passo in avanti per capire se quel sistema e quanto quel sistema è stato esportato altrove. Allora questa lunga riflessione dire al professore Vannucci e a chi come lui, pochissimi per la verità in Italia, si sono occupati di corruzione quando il tema non faceva cassetta, perché bisogna riconoscere al professore Vannucci di essersene occupato quando della corruzione non si voleva occupare nessuno, quando la SAET anzi diceva che erano i professori a inventarsi la corruzione, che fosse la vera grande sfida quella di provare a lavorare sugli indicatori della corruzione, di provare a individuare elementi che abbiano scientificità e attendibilità dal punto di vista statistico piuttosto che lasciare le classifiche a soggetti in qualche caso improvvisati e in qualche altro caso interessati. Io su questo vorrei ricordare che proprio uno dei docenti del Master, il professor Picci, è autore di ben due ricerche in cui cerca di trovare degli indicatori oggettivi della presenza di corruzione, che naturalmente scontano tutta una serie di limiti anche dal punto di vista metodologico, ma rappresentano delle sfide interessanti. Uno è molto citato anche nella letteratura internazionale, perché viene applicato proprio all'analisi comparata delle regioni italiane. Mi pare di capire che c'è un certo orgoglio campanelistico, vorrei rassicurare il dottor Cantone che la Campania risulta la regione più corrotta d'Italia, se ricordo bene, quindi c'è da questo punto di vista un primato e questo indicatore, lo dico come esempio, utilizza come criterio di indiretto di comunicazione della corruzione, il differenziale, lo dico in termini brutali, Lucio Picci che tra l'altro un amico spero mi perdonerà per l'approssimazione, la differenza tra il capitale pubblico in termini di strade, di ospedali, di caserme, di scuole, che si dovrebbe osservare realizzato sulla base della spesa che si è in arco temporale esteso, è quello che in realtà è presente. Questo è un dato che va depurato perché nella dimensione corruzione c'è anche lo spreco legato alla cattiva amministrazione, alla maladministration come si diceva, che però tra di loro corruzione e cattiva amministrazione sono a loro volta collegati, strettamente collegati, quindi è un indicatore che secondo me potrebbe rappresentare anche una via per approfondire questo tipo di ricerche. Anche i costi dei prodotti possono essere un indicatore, la famosa vicenda delle siringhe, diciamo che sembra una vicenda dalle leggende metropolitane, sono vicende vere, cioè lì dove in uno stesso paese, ma in qualche caso a volte anche in una stessa regione, lo stesso identico prodotto è stato pagato con differenze non dello 0,1, dello 0,3 o dello 0,5, del 50 o del 100% di differenza. Allora qui delle due l'una o l'amministratore della ASL, perché nel caso di specie era una ASL, è un imbecille e andrebbe mandato a casa, o è un disonesto, comunque non può più fare quel mestiere, perché se il suo vicino è riuscito a spuntare il famoso pre-la siringa a un euro e lui l'ha pagato 5 euro, è quantomeno incapace. E però, quei 4 euro come si spiegano? Perché diciamo è impensabile che la società abbia guadagnato 4 euro in più, cioè è sicuramente altro che non necessariamente corruzione, ma questo è per esempio un altro degli indicatori che potrebbe essere utilizzato, perché anche questo riguarda una patologia nel sistema degli acquisti, che è il luogo nel quale si verifica più di ogni altro il meccanismo della corruzione. Sì, perché è più facile creare questi spazi, questi margini di rendita che poi sono oggetto di appropriazione congiunta da parte del corrotto e il corruttore, che con la tangente se la ripartiscono. Ora, da questo punto di vista io volevo passare a un altro tema, però prima c'è una sollecitazione, visto che ci stiamo passando la palla, citavi prima la questione delle leggi criminogene, che sicuramente ci sono, se noi guardiamo alla nuda, alla realtà elementare della corruzione, è un accordo tra pochi per impadronirsi di risorse che appartengono alla collettività, in modo chiaramente nascosto, perché lo fanno spesso in modo illegale, le leggi criminogene sono quelle che le aiutano in quest'opera di spoliazione, da depredare le risorse comuni, a volte sono risorse in termini quantificabili monetariamente, come quando appunto c'è l'extracosto della fornitura, dell'appalto, in altri casi si appropriano di risorse ambientali, di risorse in termini di consenso politico, quindi risorse che hanno comunque, possiamo dire bene comune, per usare una formula un po' retorica, ma che rende l'idea. Allora, il punto che volevo porre è questo, e poi passiamo al secondo macro tema che vorrebbe essere quello degli effetti, dei costi non economici della corruzione. Il punto è questo, e cosa ne pensi allora di quelle che invece sono state chiamate le forme di, non di leggi criminogene, ma di corruzione a norma di legge, che è la formula fortunata utilizzata per descrivere il meccanismo, l'architettura organizzativa che poi è stata utilizzata per creare quell'enorme rendita della grande opera Mose, un miliardo e otto preventivato per la realizzazione, siamo già credo quasi a 6, 7, 8 sui 7, non si vede ancora la luce e soprattutto ci sono anche dei dubbi sulla effettiva utilità di questo manufatto e qualche dubbio può sorgere quando uno vede questi moventi nascosti, poi speriamo tutti che invece il Mose sia uno strumento assolutamente di grande efficacia, ma non è l'unico, il meccanismo del general contractor, per come è stato un po' interpretato nel nostro contesto, secondo me era ineccepibile dal punto di vista formale, perché tutto avveniva a norma di legge, ma il risultato era quello che descrivamo prima, pochi, le cricche, i comitati d'affari che si impadronivano in modo sistematico di risorse che appartenrebbero a tutti, allora come la vedi questo rischio? Io credo che questo sia un rischio reale dovuto soprattutto a un dato, lo scarso civismo e lo controllo che c'è del sistema legislativo, cioè voglio dire qual è il vero e proprio controllo che c'è sul legislatore, da sempre in democrazia è la presenza delle opposizioni e il controllo dell'opinione pubblica, queste vicende quando manca il controllo dell'opinione pubblica e a maggior ragione quando manca nei luoghi in cui si presentano le leggi un'opposizione consapevole, il rischio vero è questo, ma mi interesserebbe però della tua analisi su cui sono d'accordo, diciamo, evidenziare due livelli, cioè esiste un livello di corruzione o esisteva, perché per fortuna oggi è un po' meno facile da accettare l'idea, un livello di corruzione che era quasi istituzionalizzata, cioè fino a un certo momento storico dell'Italia la corruzione è stato un sistema accettato convenzionalmente di finanziamento della politica la politica si finanziava sistematicamente attraverso la muncitura dei lavori pubblici era, diciamo, era sotto gli occhi di tutti, basta vedere che cosa era emerso nel sistema di Tangentopoli, le spartizioni, diciamo, proprio millimetriche, col manuale famoso Cencelli tu hai tanto, prendi tanto, tu hai... e le leggi venivano fatte con una logica che teneva conto anche di quel meccanismo, la legge sul Mose, fra l'altro nel 1984, noi abbiamo credo superato, diciamo, in termini di tempi un'opera che è stata autorizzata con la legge del 1984 che non è ancora finita e se tutto va bene finirà nel 2016-2017, poi sull'utilità spetta fino a un certo punto a noi dirlo, però, diciamo, obiettivamente, se andiamo a vedere i danni che si sono verificati in questo periodo in cui non c'è stato il Mose a Venezia, ci chiediamo, ma valeva la pena spendere 7 miliardi? Però questa è stata una scelta, diciamo, fatta dai tecnici e dalla politica. Tra l'altro io non sapevo, ma esiste anche il minimose. A Como stanno facendo il minimose? Perché poi, diciamo, il rischio vero è che sempre l'emulazione, cioè stanno facendo mini paratie da mettere davanti, diciamo, al fiume, davanti al lago, anche lì per provare, perché poi certi meccanismi stimolano la fantasia, diciamo, non lo so, perverso, non lo voglio dire perché rischieremo la denuncia per calunnia, fra l'altro siamo in radio, quindi bisogna stare attenti. Però certo è strano, il minimose, ora mi auguro che non lo facciano pure sul lago di carta, perché, visto che non abbiamo tantissimi le alaghi, ormai abbiamo fatto Como, possiamo pensare la cagarda. Dicevo, io credo che questo tema delle leggi sia stato, diciamo, uno strumento utilizzato in un certo periodo storico per fare le grandi vicende di corruzione, perché è evidente che ci sono due ambiti di corruzione, quella corruzione amplissima fatta dal sistema, diciamo, degli affari. La legge obiettivo, non voglio essere esagerato, ma la legge obiettivo era una legge che, diciamo, io la direi criminogena, non voglio dire che è una corruzione norma di legge, ma la legge obiettivo di fatto ha consegnato il sistema delle grandi opere pubbliche in mano ad una lobby di 10-12 grandi gruppi industriali, grandi gruppi di costruttori, che di fatto facevano il bello e il cattivo tempo sulle opere che si dovevano fare, su come si dovevano fare e come si dovevano finanziare. Nascendo da un'idea, perché poi la legge obiettiva non era una stupidaggia, nascendo dall'idea che queste opere potevano essere finanziate anche dal sistema privato, dal sistema dei project, con l'intervento delle banche, questo meccanismo che teoricamente era perfetto non ha funzionato quasi mai, perché alla fine lo Stato ci ha quasi sempre rimesso il doppio di quello che ci avrebbe dovuto rimettere. Quella era una legge che io preferirei dire criminogena, cioè una di quelle leggi che è nata con un obiettivo positivo affinito per favorire i meccanismi della corruzione. Io credo che per fortuna leggi che hanno legittimato di fatto la corruzione, come quella sul sistema Mose, perché quella legittimava la corruzione? Perché quella consentiva a un consorzio di imprese privati che venne affidata direttamente per legge alla costruzione di un'opera pubblica. Cioè lì la legge individuò chi avrebbe dovuto fare il Mose. Per fortuna non ha precedenti. I meccanismi di dopo sono stati molto più capziosi, perché formalmente individuavano, diciamo, non leggi ad hoc, principi di carattere generale che hanno consentito a un sistema economico di consolidarsi con forza e di diventare veri e propri sistemi di monopolio nell'ambito delle opere pubbliche. Quei sistemi di monopolio che poi hanno fatto lobby quando si è trattato di provare ad incidere davvero su alcune strutture. Perché la presenza, per esempio, in alcune strutture vitali del Ministero delle Infrastrutture, di soggetti che sembravano inamovibili, non era solo giustificata dall'inerzia della politica, ma era giustificata probabilmente anche dagli interessi di un certo ceto imprenditoriale che voleva essere garantito con nomi e cognomi. Quindi io direi che più che corruzione a norma di legge, noi abbiamo sempre più, dall'inizio degli anni 90 in poi, create delle leggi che avevano, diciamo, e che consentivano di essere sfruttate in una logica che era una logica che era completamente opposta. da questo punto di vista, prima di passare, mi rimpalli ancora questa... beh, citavi la questione di questi pochi grandi gruppi imprenditoriali. Allora la questione che mi veniva in mente di proporti era questa. Quando c'è uno scandalo, anche nelle ultime vicende di mafia capitale, ma anche gli scandali che citavamo prima, Mosexpo, in genere l'opinione pubblica butta la croce addosso al politico, specie se hanno una certa visibilità pubblica, ai funzionari, agli amministratori, quelli che in qualche modo vengono percepiti come i veri colpevoli della vicenda, anche se poi chiaramente il reato c'è il corrotto, ma c'è anche il corruttore. Allora quello che invece ci raccontano, se uno va a scavare un po' meglio nelle ordinanze, negli atti giudiziari, ma anche se uno fa proprio l'aritmetica elementare della corruzione, vedere di quanto lievita, tende a lievitare il prezzo, mettiamo dell'appalto, della fornitura, quando c'è la tangente e qual è la quota che va al politico e tutto il resto rimane all'imprenditore, che fa la parte del leone. Cioè la quota più grande tocca al soggetto privato. Allora quello che mi chiedo è, non c'è una simmetria di fondo? Cioè questa classe imprenditoriale italiana non sembra vivere una sorta di limbo morale per cui qualunque cosa, qualunque nefandezza viene poi alla fine, almeno agli occhi dell'opinione pubblica, ma mi verrebbe da dire anche agli occhi dei loro pari, cioè degli altri imprenditori in qualche cosa condonata, è ritenuta quasi giustificabile come pratica, visto che poi in fondo il fine dell'imprenditore è perseguire la logica del profitto e se la logica del profitto ti richiede anche il pagamento della tangente, va bene, è un peccatuccio veniale. E allora questo, come dire, getta se vogliamo una luce abbastanza drammatica sul nostro paese, perché questa dovrebbe essere la parte più vivace, più innovativa, questa dovrebbe essere società civile. Non c'è più allora questa scissione fra una classe politica corrotta e una società civile sana. Forse dobbiamo porci un problema di fondo che in qualche modo chiama in causa anche i soggetti istituzionali che dovrebbero incidere su questa realtà. Possiamo fare i controlli che vogliamo sulla pubblica amministrazione, ma quella realtà che non è in grado in qualche modo di autoregolarsi, di mettere ai margini i soggetti in qualche modo che sfruttano la loro capacità di creare relazioni, di avere contatti occulti come fattore di arricchimento illecito, è un fattore che mette a rischio, credo, l'intero sistema economico. Questo mi fa da introduzione alla domanda che ti porrò fra poco. Ma guarda, io, diciamo, sottoscrivo la risposta che è implicita alla tua domanda punto su punto e vorrei rilanciare. Ovviamente bisogna stare attenti perché dietro queste critiche si rischia sempre l'idea che uno voglia andare contro il mondo imprenditoriale. Non è un revancismo di stampo comunista. Io sono per il libero mercato e sono dell'idea che l'imprenditoria libera sia fondamentale. Ovviamente poi bisogna capire il livello degli imprenditori che sono i tuoi interlocutori, ma questo è un problema più complicato. Volevo rilanciare a quello che tu dici. Se noi facciamo un paragone fra 1992 e 2012-2013, vediamo una simmetria clamorosa. I soggetti che ricevono le tangenti sono tutti cambiati, ma i soggetti che pagano no. La maggior parte delle imprese coinvolte nelle vicende di Tangentopoli oggi sono quelle coinvolte nelle vicende degli scandali attuali. E molti di quegli imprenditori che sono stati condannati in Tangentopoli sono ancora sulla crista dell'onda e, diciamo, stanno continuando ad operare. Stanno continuando ad operare in una logica che loro giustificano dicendo «Ma noi che dobbiamo fare?». Ovviamente è tutto finto, perché io su questo pure non ho idee chiarissime. Vi voglio raccontare qualche fatto. Ad Expo emerge che due grossi filoni di vende corruttive. Poi se andiamo a vedere è molto meno significativo. Uno che riguarda uno dei più grandi appalti, che è quello delle infrastrutture di servizio, in cui il soggetto di Expo che è stato condannato ormai definitivamente, che ha patteggiato per corruzione, dando a una delle più grandi imprese italiane, favorendo la vincita di una delle più grandi imprese italiane dell'appalto, si è accontentato di una promessa di fare un futuro il manager di una grande ditta. Non ha avuto neanche 50 lire. L'impresa ha vinto un appalto di milioni di euro ed era una delle imprese più importanti. Seconda vicenda che riguardava la stessa impresa, che riguardava un altro dei grandi appalti di Expo, le vie d'acqua, il RUP, che fra l'altro è un ingegnere famoso a Milano che era stato insignito anche dell'Ambrogino d'oro, questa dimostrazione diciamo un po' di certe cose, riceve su un appalto di 50 milioni di euro, una tangente di 30 mila euro. Io a uno del genere lo caccierei a calcio per essere due volte imbecile, si è venduto la sua funzione per zero, ovviamente non significa che doveva vendere di più, ma siamo a livelli di accattonaggio. Livelli di accattonaggio che poi si sposano con quanto, per esempio, tu verifichi a volte nelle indagini. Nel libro che abbiamo scritto, l'ho scritto con Gianluca Di Feo, e che diciamo Gianluca Di Feo ha fatto moltissime ricerche, ha trovato una intercettazione di una vicenda, una indagine giudiziaria di una vicenda, di un appalto che era stato assegnato per 5 milioni di euro in cui l'imprenditore, parlando diciamo nell'ambientale, dice questo lavoro mi costerà 600 mila euro. Cioè lui prevedeva di fare un guadagno del 1000%, forse era esagerato, ma lo diceva lui, non è che glielo dicevano altri. Il tema vero è una classe imprenditoriale che non ha mai provato davvero a emendarsi. E io su questo voglio rilanciare ancora di più. Ma quando in Italia è stato cambiato il falso in bilancio? Noi abbiamo ormai individuato diciamo una serie di capri espiatori. Sappiamo, abbiamo diciamo tutto il peggio della legislazione italiana e ascrivibile a un personaggio di cui non diciamo il nome, ma che è stato il Presidente, che è stato ed è ancora il maggior azionista del Milan. Non è vero, non è vero. Io mi indigno rispetto a queste cose, o almeno è vero per una serie di cose, le leggi ad persone, ma quelle erano nel suo interesse. Il falso in bilancio non l'ha voluto Berlusconi. Il falso in bilancio fu voluto da una petizione di Confindustria che fu firmata da i migliori imprenditori che c'erano in quel periodo, i più importanti imprenditori, sostenendo la tesi che se avessimo eliminato il falso in bilancio avremmo rilanciato l'economia. Ora, io voglio dire cinicamente, ok, cinicamente, se l'eliminazione del falso in bilancio avessi avuto effetti benefici per il Paese, io direi abbiamo fatto bene. Se la legge obiettivo che è stata voluta da quella stessa grande impresa avrebbe consentito di fare le opere, anche in un mangiamangio generale, io potrei cinemente dire va bene, sono state fatte l'8% delle opere e sono state fatte con danni colossali. Noi abbiamo avuto una classe imprenditoriale che ha utilizzato questi strumenti come un meccanismo per chiudersi. Il vero danno della corruzione, e so che questo è quello che mi vuoi e ti introduco. La corruzione è un sistema anticoncorrenziale. Noi abbiamo una classe imprenditoriale provinciale che si nasconde dietro la corruzione per non avere concorrenza. Questo è il dato. Questa classe imprenditoriale oggi finalmente sta cominciando a capire che non può non confrontarsi, anche perché molta della migliore classe imprenditoriale se n'è andata dall'Italia perché questo sistema non consente di, diciamo, anche quelli che avevano avuto un ruolo nelle prime vicende di Tangentopoli. Hanno capito che questo sistema finisce per favorire gli incapaci, gli introdotti in questo le responsabilità della classe imprenditoriale. Sono pari a quelle della classe politica, se non maggiori. Per la semplice ragione che la classe politica è scomparsa quella classe politica. Gli imprenditori sono rimasti uguali, in gran parte sono rimasti uguali e hanno continuato con i metodi ovviamente molto più raffinati, perché gli imprenditori hanno capito che il politico non va comprato, va allevato. La vicenda di mafia capitale è la dimostrazione che non lo devi comprare il politico, te lo devi allevare dall'interno come un pollo di batteria. Nei vicendi di mafia capitale il pollo viene allevato, diciamo, da questo gruppo di potere, da bambino quasi. Gli si dice quando devi fare la consultazione, gli si comprano le tessere, gli si comprano i voti, gli si comprano le disponibilità. Cioè hanno capito che nell'organizzazione del sistema imprenditoriale tu devi avere il referente lobbistico, che non è quello che fa la lobby all'esterno, è quello che sta direttamente all'interno. Allora pecchiamo di eccesso di comunismo se diciamo che abbiamo una classe imprenditoriale che ha creato un meccanismo assolutamente anticoncorrenziale, perché questi meccanismi di corruzione hanno finito per bloccare il sistema paese in questo senso, non consentendo alla piccola impresa di emergere, non consentendo all'imprenditore che faceva innovazione di ottenere risultati, perché se io faccio innovazione nessuno me la riconosce, ma perché la devo fare questa innovazione? Beh, vorrei dire che se pecchiamo di comunismo siamo in buona compagnia perché anche Papa Bergoglio è stato accusato di essere comunista, quindi non lo so, bisogna vedere cosa si intende per comunismo. Comunque non ci avventuriamo su questo terreno che è spinoso, spinosissimo, no, la differenza fra mani pulite, ne citavo alcune significative, fra le vicende di mani pulite e quelle che sono emerse più di recente, hanno proprio l'idea di un completo rovesciamento dei rapporti di forza. Mani pulite abbiamo gli imprenditori che sgomitano per avere accesso alle anticamere dove aspettano ore e ore di essere ricevuti dal politico, dal quale poi ovviamente otterranno quell'accesso privilegiato agli appalti, alle forniture, eccetera, le cronache recenti ci restituiscono l'immagine in cui i rapporti di forza, lo dicevi perfettamente, sono completamente capovolti, in cui è il politico ben lieto di trovare, come dire, l'interlocutore imprenditoriale dal quale abbeverarsi quando ha bisogno di finanziare la cena, quando ha bisogno di ottenere i voti, magari attraverso il tramite della famiglia andranghetista o della famiglia mafiosa locale. Quindi è una rete di scambio in cui effettivamente vediamo che i soggetti, anche per la loro stabilità, perché lo dicevi giustamente, non c'è stato un gruppo imprenditoriale che non sia stato coinvolto in Tangentopoli, al di là di qualche condanna, peraltro molto lieve, sono rimasti tutti lì, loro e gli intermediari, che anch'essi sono figure ricorrenti perché svolgono questo ruolo di tessuto connettivo delle reti della corruzione. Passerei a una lunga serie di assist che partiva da questo spunto di riflessione. I costi della corruzione lo ricevi in modo, come dire, assolutamente condivisibile, è una cosa che quando mi capita anche io cerco di discutere in pubblico perché questa roba dei 60 miliardi di euro non ha né capo né coda. La fonte forse è un passaggio mal interpretato di un rapporto, di una relazione del procuratore generale della Corte dei Conti, che lo citava buttandola là in modo totalmente impressionistico e poi dicendo, no ma io l'ho detto ma non era uno studio serio, era un tentativo di applicare questa percentuale, il 3% del PIL, del prodotto interno loro, del costo della corruzione. Non significa nulla, non ha alcun significato economico, noi non abbiamo la più parità di quale sia questo costo. Se guardiamo in termini monetari quello che costa in più l'appalto con tangente rispetto all'appalto senza tangente, possiamo dire che solo in quel settore, probabilmente, attività contrattuale pubblica, il costo economico monetario in termini di extra che grava sulla spesa pubblica è di qualche miliardo, decennia di miliardi di euro, però non sappiamo quanti sono e forse non è neanche interessante saperlo perché i costi più significativi sono alti. Allora, questa è, come dire, un assist a ripetizione, poi scegli tu dove orientarti. Queste sono, diciamo, correlazioni statisticamente significative in cui il caso italiano è sempre segnalato dalla freccia rossa, la freccia rossa indica il red flag, il campanello d'allarme, il segnale di pericolo, tra tutta una serie di manifestazioni patologiche che investono, da un lato, gli alti livelli di corruzione percepita, con tutti i limiti che condivido, però è l'indicatore che ci sono, quindi alti livelli di corruzione percepita e, che cosa? Minore efficienza della burocrazia, quindi vischiosità, tempi di attesa, numero di procedure, costi che le imprese devono sostenere per affrontare queste procedure. L'altro era quello che mostravo prima perché anticipavo un punto, fiducia o meglio sfiducia, quindi dell'egittimazione di tutte le istituzioni pubbliche. I paesi dove ci si fida meno del governo, del Parlamento, dei partiti politici, della classe politica, sono i paesi con un più alto livello di corruzione. Ora, sottolineo già un aspetto che, immagino tu condividi, a cui non stiamo parlando di fenomeni in cui uno è la causa e l'altro l'effetto, si alimentano a vicenda in tutti questi casi. Esatto, il problema dell'uovo e della gallina. È questo che citavi prima. I paesi con un più alto livello di corruzione sono i paesi nei quali le imprese investono meno in ricerca e sviluppo, in innovazione. Naturalmente l'effetto è che assumono meno forza lavoro innovativa, ci sono meno ricercatori, in compenso che assumono più avvocati. Le competenze giuridiche sono quelle che in qualche modo tendono a premiare le imprese, ma non soltanto le imprese, in ogni contesto nei quali c'è da interagire con la pubblica amministrazione. Quindi densità di avvocati, altro indicatore, altra red flag. Tutto statisticamente significativo. E poi il dato che secondo me è il più drammatico. I paesi con un più alto livello di corruzione percepita sono quelli nei quali tutti gli indicatori legati al sistema dell'istruzione, quindi della spesa pubblica nella scuola, nell'istruzione universitaria, nell'innovazione e nella ricerca spesa pubblica, e i livelli di istruzione della popolazione, che ne sono l'output, il risultato finale, quindi il percentuale di laureati o di diplomati rispetto alla popolazione, sono correlati in modo statisticamente significativo e l'Italia in coda a tutte le classifiche internazionali. Ancora l'effetto, se non si preme il talento, i paesi più corrotti sono quelli dove è più alto il livello di fuga dei cervelli. I ragazzi che hanno competenze, talento, voglia di fare, non sono premiati perché le imprese, lo abbiamo visto nelle cronache di mafia capitale, sono sì ben attente a chi assumono, ma su segnalazione, su indicazione dei loro interlocutori all'interno della politica e dell'amministrazione. E poi l'ultima, forse questa ce la serviamo per un'analisi a sé, forse la lascerei per ultima, però l'anticipo fin d'ora, se facciamo un'analisi a livello regionale e abbiamo degli indicatori sia di corruzione che di penetrazione mafiosa, l'ha fatto Transcrime a livello regionale, c'è una correlazione forte e statisticamente significativa e le regioni con un più alto livello di corruzione sono quelle dove le mafie hanno radici più profonde sul terreno. Allora, qui come vedi non è un assist, però l'idea di fondo che penso condividiamo è questa, non accontentiamoci della favoletta dei 60 miliardi di euro l'anno di costo, che guarda caso sono mille euro pro capite per cittadino, quindi c'è anche una sua eleganza statistica, cerchiamo di capire meglio quelli che sono gli effetti profondi di lungo periodo di un sistema ad alta densità di corruzione. Sì, io diciamo mi hai dato una quantità di assist che non so nemmeno da dove cominciare, prima di tutto burocrazia, è un dato sicuro che la burocrazia è un fenomeno che favorisce la corruzione, però attenzione, non facciamo l'errore che viene fatto al contrario, quali sono gli elementi che nell'ambito della burocrazia favoriscono la corruzione? Due, l'eccesso di burocrazia è l'assenza assoluta di burocrazia, l'assenza di controlli, cioè noi abbiamo sempre pensato che quando c'era un eccesso di burocrazia dovevamo smantellare il sistema dei controlli, abbiamo fatto l'errore più clamoroso, siamo caduti dalla padella alla braccia. I due ambiti nei quali si sviluppa di più la corruzione è l'assenza, l'eccesso di burocrazia e l'assenza di burocrazia. Vogliamo un esempio, le storie di mafia capitale, perché credo che questa sia una vicenda la più emblematica di quella che si è verificata. Dove nascono? Nascono da un'assenza diciamo di regole dovute al fatto che a un certo punto l'Italia viene invasa dagli extracomunitari, diciamo è un dato, facciamo valutazioni e c'è bisogno di stabilire come trovare una soluzione e chi in quel momento trova la soluzione, chi si inventa? Prima di tutto un settore in cui gli imprenditori normali si sono avuti a distanza, hanno detto ma che schifo, ci mettiamo a preoccuparci di queste cose e all'inizio chi l'ha fatto? L'hanno fatto gli organismi di volontariato, poi un po' alla volta hanno capito che c'era trippa per gatti e allora diciamo si sono create le cooperative che si proponevano a senso assoluta di regole, anzi c'erano regole che erano state fatte per le Ollus, per le cooperative di categorie B che dovrebbero fare attività di volontariato, quindi senza fi di lucro, quindi assenza assoluta di controllo. Quello è un settore in cui l'autostrada della corruzione si è inserita senza limiti e l'eccesso di burocrazia dove tu trovi centomila ostacoli finché tu non capisci che l'unico modo per aggirare gli ostacoli è forse trovare il modo per, diciamo, ungere le ruote, perché poi l'Italia è il paese in cui ci sono il livello più elevato di complessità da far capire agli stranieri. Io voglio raccontare un'esperienza perché a volte può essere utile più che parlare di massimi sistemi di scende scientifici. Una storia che secondo me è emblematica, che si verifica al nord, deve essere costruito un grosso centro commerciale da parte di una delle più grandi multinazionali del mondo, una società australiana. Ora non voglio entrare in merito, è giusto, mi interessa nulla. Lui ha già avuto, diciamo, questo gruppo ha già avuto la possibilità di costruire questo centro commerciale che deve essere inserito in una realtà, diciamo, nella zona della Lombardia e c'è bisogno di costruire una strada. Una strada che servirà solo in parte al centro commerciale, ma che serve anche per la viabilità ordinaria. E nell'ambito di un accordo di programma, che sono queste nuove novità secondo me interessanti, che vengono previste alle nuove leggi, ovviamente si è detto scusa, visto che questa strada l'utilizzi tu, in parte pagala tu. E loro hanno detto va bene. Sono passati dieci anni, non è stata ancora cominciata a mettere una pietra. Un giorno questi signori si svegliano e dicono, la strada la vogliamo costruire noi, a spese nostre tutta, a condizione che ce la fate fare. Vanno in regione e chiedono questa possibilità. La regione dice, ma che significa? E allora chiedono a noi un parere. E arriva questa vicenda da noi per un parere e noi dobbiamo dire che non lo possono fare. Abbiamo dovuto dire che non si può fare, cioè che loro non ci possono regalare una strada, perché il sistema nel nostro codice dei contratti non consente che questo si faccia. Ora facciamo capire ai signori australiani che vengono in Italia e che loro sostengono, probabilmente esagerando, che dovranno attraverso questa operazione fra indotto diretto e indiretto diecimila posti di lavoro. Secondo me è una balla, ma non saranno diecimila, saranno duemila. Ci vogliono regalare una strada ad una condizione, ce la vogliamo costruire noi però, perché non ci siamo scocciati di fare queste questioni. Noi ve la diamo dall'inizio alla fine, voi la collaudate, ci dite va bene e noi non vi chiediamo neanche un centesimo. Non è stato possibile. Ora chiediamoci, ma che cosa penseranno questi signori quando torneranno in Australia? Che meglio andare a costruire le strade dove stanno i canguri? Che questo è un paese in cui non si può investire? Che noi abbiamo una legislazione talmente burocratica che non consente a uno che ci vuole regalare una cosa di farglielo fare. Questo è un dato, ma il fatto sto insuperabile. Quindi eccesso di burocrazia, assenza assoluta di burocrazia. Poi storia degli avvocati. Io prima di questa esperienza l'avevo fatto il magistrato, conoscevo pochissimo il sistema degli appalti. Ho capito che effettivamente le imprese si devono dotare di avvocati bravissimi più che di ottimi tecnici. Due vicende. Vi racconto perché sono fatti. Expo. La società che non ha vinto l'appalto, che poi ha vinto, diciamo, da chi ha ottenuto l'appalto con la evoluzione, ha fatto un'azione di risarcimento. Un appalto, diciamo, di una decina di milioni di euro. Il Tar gli ha riconosciuto un miliardo, un milione di euro di risarcimento danni. Ma su 10 milioni di euro non avremmo fatto un utile, almeno formalmente, di un milione di euro. Loro, senza mettere una pietra a terra, hanno ottenuto un risarcimento danni che, diciamo, è utile al cento per cento. Pede Montana. E i costi degli avvocati. Però, attenzione, i costi degli avvocati, almeno in parte li paga la stazione appaltante, poi ci sarà una parte. Però sono bravi, sono stati bravi. Io a questo avvocato gli darei tutto quello che vuole. Ma c'è una vicenda ancora più rilevante. Nell'ambito della costruzione di un pezzo di un'autostrada del nord è stata riconosciuta ad una società che non ha vinto l'appalto un risarcimento di 21 milioni di euro. 21 milioni di euro. Allora io mi dico, ma scusate, ma questo perché dovrebbe fare il costruttore? Questo deve avere solo una ditta per partecipare agli appalti. Perché che se ne importa di mettere le pietre o di pagare gli operai e di avere ogni giorno scocciature sui cantieri? Ha trovato il metodo per arricchirsi. Ovviamente scopriamo, e questo è, diciamo, strano, che la gara è stata tutta sbagliata, e chiediamo alla ditta, scusami, ma hai fatto l'azione di risarcimento nei confronti dei commissari che hanno sbagliato la data, la ditta, la gara, perché c'erano errori marchiani che il Tar ha dovuto per forza, anche se 21 milioni di euro. No. Cioè, se io fossi un imprenditore privato e il mio dipendente fa un errore clamoroso che mi comporta un danno di 21 milioni di euro, gli direi, scusa, ma almeno una parte me le vuoi dare, non hanno fatto l'azione di risarcimento. Ad oggi, poi può essere che finiranno di farla, ma dico, il dato è, più avvocati, questo sistema che è collegato alla burocrazia finisce per favorire l'inefficienza, che è la madre principale della corruzione, l'inefficienza di sistema, quella di chi alla fine scoraggia chi vuole fare, perché incoraggia chi vuole aggirare. E poi il tema della fuga dei cervelli. Tu l'hai già detto, quindi diciamo c'è veramente poco da dire e poco da aggiungere. Ma io qualche volta provo a andare nelle scuole, diciamo, nelle scuole superiori, mi capita purtroppo pochissimo, e provo a spiegare perché la corruzione è un problema anche dei ragazzi, dicendo quello che già ha detto il professore Vannucci. Perché c'è un collegamento con la fuga dei cervelli. C'è un collegamento enorme per le cose che dicevamo prima, perché la corruzione è un sistema che non porta innovazione, non porta a dire, scusami, tu sei un bravo ingegnere esperto di materiali, vieni a lavorare per me, ma chi se ne frega. Io mi devo prendere l'amico che è il parente del politico che al momento opportuno mi serve per andare a vincere l'appalto, del dirigente dell'ufficio del comune di Pincopalino che mi ha dato la possibilità di vincere la commessa. Io non ho nessun interesse a prendere i bravi, ho interesse a prendere i raccomandati, quelli che fanno parte del sistema. Il sistema della corruzione è in questo senso il più grande volano per la fuga dei cervelli, perché i bravi non riescono a trovare spazio, ne trovano molto meno. Io sono convintissimo che quel grafico, da quel punto di vista che ha mostrato il professore Mannucci, è un grafico che non voglio dire, io non ho gli elementi per fare la valutazione, ma dal punto di vista della sensibilità, io credo che questo sia l'indicatore principale del livello di corruzione del Paese. Perché quando i bravi non trovano spazio, e Alberto, scusami, anche nell'università, che è un altro di quei temi su cui in Italia si fa grande fatica a parlare, quando non trovano spazio, perché i meccanismi sono bloccati da logiche che sono logiche chiare, a certe cose si accede semplicemente attraverso certi meccanismi che sono di cooptazione collegate non più a meccanismi baronali, ma a meccanismi di cooptazione economica. In molti casi quello che più preoccupa, e parlo proprio della corruzione universitaria, è anche la copertura omertosa quando a volte, occasionalmente, molto occasionalmente, queste realtà emergono. Cioè il sistema, in questo, come in altri casi, ma nell'università forse con logiche, per certi versi ancora più stringenti, tende a coprire, a proteggere. E la protezione, questo tipo di protezione è sempre nemica appunto del merito, della trasparenza. Una, ne approfitto, così c'era già una domanda e ne approfitto per, diciamo, prima di andare al gran finale, era l'ultimo tema che volevo affrontare, c'è luce in fondo al tunnel, poi l'ultima parte è dedicata all'anticorruzione e all'antimafia. Assolutamente, sì. No, 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 ma infatti gli lasceremo... Se chiudiamo così, diciamo, non c'è più nulla da fare, ce ne andiamo dicendo facciamo tutti i corrotti e i corruttori. No, no, assolutamente. Abbiamo ancora un 40 minuti e tutta l'ultima parte le dedichiamo sicuramente a questo. Però una cosa più di dettaglio, infatti a fare la domanda e non solamente nel master, beh, quello che hanno rilevato è anche nei piani nazionali anticorruzione. Tu citavi prima giustamente la questione dei controlli come un fattore che in qualche modo, se ben utilizzato, può servire a far emergere queste aree di inquinamento. Però quello che ha colpito alcuni studenti, che è già emerso, e qui viene sottolineato in questa domanda, è il fatto che paradossalmente si sottovaluta, ad esempio, il piano nazionale anticorruzione non considera la stessa attività di controllo come un fattore di potenziale corruzione. Si paga per evitare o per indirizzare il controllo verso, come dire, un esito favorevole al soggetto controllato. È evidente che quando tu paghi, ad esempio, quello classico, quando tu hai pagato la tangente per avere l'appalto per asfaltare la strada e poi metti, ti rifai con gli interessi della tangente pagata riducendo la quantità di, esatto, riducendo, come dire, è chiaro che poi basta pagare la microtangente all'ingegnere che viene a fare il controllo e in qualche modo fai bingo, cioè hai pagato per vincere, hai pagato per riprenderti con gli interessi quello che ti è servito a vincere. Ecco, il settore dei controlli stranamente non è previsto nel piano nazionale anticorruzione a differenza degli appalti, giustamente, dell'urbanistica, come uno dei settori dove il rischio è di default elevato. Che ne pensi di questa lacuna? Ma io, diciamo, io credo che sia una lacuna, ma io credo che dobbiamo avere il coraggio di dire che questo primo periodo di attuazione di piani anticorruzione è stato un sostanziale fallimento. Un sostanziale fallimento, per certi versi, annunciato. Perché? Perché la legge nasceva dall'ambiguità che i piani di prevenzione della corruzione dovesse fare il Ministero della Funzione Pubblica. Ma cosa c'entra il Ministero della Funzione Pubblica? che ha fatto un piano di prevenzione della corruzione di un'illeggibile già dal punto di vista della quantità e che poi, diciamo, parliamoci che dobbiamo chiedere ai singoli comuni di fare i miracoli, che lo devono fare se è a costo zero, perché la legge prevede a costo zero. E noi non parliamo di comuni che hanno anche, diciamo, un background di competenze come possono essere i comuni del centro-norte. Pensiamo al comune piccolo che dall'oggi al domani si è trovato buttato sull'onere di dover fare il piano anticorruzione. Io racconto sempre una storia vera. Noi abbiamo avuto una segnalazione di un piano anticorruzione di un comune che era stato copiato dal comune vicino. E tutto sommato avremmo potuto dire qual è il problema. Sono due comuni vicini hanno gli stessi problemi, solo che l'aveva copiato così pedisseguamente che aveva lasciato anche il nome dell'altro comune, anche il nome delle responsabili della corruzione dell'altro comune. Cioè non se ne era fregato proprio nulla, ma perché per l'ora era un adempimento burocratico. Il nostro compito adesso, infatti non abbiamo fatto l'aggiornamento del piano anticorruzione. Io ho chiesto al professore Merloni che se ne occupasse, non facciamo farsi. Leggiamo i piani che sono stati fatti. Abbiamo fatto una task force, brutta parola, un gruppo di lavoro che sta provando a leggere i piani e i risultati sono drammatici, nel senso che sono quasi tutti copiati. Ve ne racconto un'altra dopo, in cui abbiamo verificato che i piani non hanno nessuna analisi del rischio. Sono rarissimi i casi. Ci sono alcuni comuni virtuosi che hanno fatto dei lavori eccezionali, quantomeno della mappatura dei rischi. E dobbiamo fare un piano anticorruzione che sia brevissimo. Poche cose, quelle utili davvero. Certamente il settore dei controlli è rilevante perché ti dirò di più. Noi abbiamo sottovalutato nella logica di controllo degli appalti, solo la fase genetica, non preoccupandoci proprio della fase funzionale. Del resto i grandi affari, i grandi imbrogli non si fanno in operazione di vincere gli appalti. Gli imprenditori hanno imparato più o meno la lezione, mettono grandi ribassi sapendo che poi comunque le otterranno dopo. Quindi io sono assolutamente d'accordo su questo specifico passaggio. E vi dico perché, per esempio, un'altra vicenda che ho verificato dei piani anticorruzione, proprio per provare anche a raccontare le vicende specifiche. In un ospedale della Campania, Caserta, si è verificato uno dei più grandi scandali, purtroppo però trattandosi di una provincia babba, poco diciamo pubblicizzati. Il manager reale dell'ospedale di Caserta, non quello formale, era il cognato del capoclan dei Casalesi, che ogni giorno si recava lì, aveva anche un ufficio, riceveva le persone, si occupava degli appalti, riceveva i medici, diciamo era di fatto il funzionario di fatto, era giuridicamente un funzionario di fatto. Perché poi si occupava davvero delle vicende, stabiliva le liste d'attesa, diciamo gestiva l'ospedale di Caserta in modo perfetto. Cioè perfetto, vabbè, gestiva la sua logica. soprattutto gli appalti. Abbiamo verificato che in quell'ospedale, diciamo, il livello di affidamenti senza gara ha superato i limiti di qualunque possibile indecenza. Però allora a questo punto, per curiosità, vediamo il piano della prevenzione della corruzione, le regole sulla trasparenza. Abbiamo visto il piano della prevenzione della corruzione, perfetto. Poi siamo andati a fare un controllo, copiato integralmente dal piano della prevenzione della corruzione di Cuneo. Perché forse qualcuno era andato a fare a Cuneo come Totò. Cioè il collegamento fra Caserta e Cuneo, dal punto di vista social, amico, culturale, è solo la prima lettera delle parole. Il piano della prevenzione della corruzione di Caserta copiato da Cuneo. È una cosa incredibile. Ovviamente assolutamente inattuato. Poi è arrivato un responsabile della prevenzione della corruzione che ha provato a fare la rotazione. gli hanno fatto trovare la testa di Agnello fuori casa, lui ha capito un minuto dopo, dice ma quale rotazione? Ma di che parli? Oggi ci sono i commissari straordinari. Perché la Campania ha avuto anche questo record, quindi non mi meraviglia quello che tu dici. La prima, il primo ospedale sciolto per Camorra. Noi abbiamo avuto la prima ASLA sciolta per Camorra, adesso il primo ospedale sciolto per Camorra. Speriamo che i commissari ci riescono a farlo, però questo è il livello di attuazione dei piani di prevenzione della corruzione. Che lo dico da Presidente dell'autorità di corruzione, così non servono a nulla. O facciamo un'inversione fortissima di tendenza, semplificando e rendendoli utili, o è inutile che imponiamo, diciamo, alle amministrazioni quelle virtuose, uno sforzo pesantissimo con risultati che però sono dubbi. Anche se, attenzione, chi ha utilizzato i piani di prevenzione della corruzione bene, si è reso conto che non sono un adempimento burocratico, che i piani di prevenzione della corruzione sono una grande possibilità di lavorare sull'organizzazione. Fatemi dire in questo senso un aspetto positivo. Il Comune di Roma è riuscito a movimentare, a muovere i vigili che stavano nello stesso posto da 27 anni grazie al piano di prevenzione della corruzione. Quindi il piano di prevenzione della corruzione è ben utilizzato, è uno strumento fondamentale di organizzazione, non uno strumento semplicemente fine a se stesso. Sì, e quando, no, è precisamente questo punto, quando si esce qualcuno, evidentemente, tra gli amministratori pubblici ci è riuscito a, si esce dalla logica dell'adempimento formale e si investe per capire veramente quali sono gli indicatori di rischio, si producono anche dei risultati pregevoli. Quei buoni piani anticorruzione che avete rilevato andrebbero, tra virgolette, premiati, nel senso fatti conoscere, diffusi e magari utilizzati come modello nel momento in cui si penserà una revisione del piano nazionale. E questa, secondo me, è assolutamente condivisibile. Penultima, prima di arrivare alla, diciamo, parte sull'anticorruzione, però era l'ultima slide, no? Quella sulla, che è un po' quella che ci porta purtroppo anche alla cronaca. E qui, come dire, c'è questa duplice sensibilità di chi ha operato a lungo come pubblico ministero nelle inchieste contro i clan camorristi, clan mafiosi, e chi adesso riveste carico istituzionale nella prevenzione, ma anche con compiti che incidono soprattutto nel settore di appalti in chiave di controllo sulla rischio corruzione. E allora quello che mi chiedo è, come dire, una riflessione di sistema su questa correlazione che sì, è una correlazione statistica che si traduce in tutta una serie di meccanismi che fanno sì che dove c'è un'amministrazione corruttibile le mafie trovino terreno fertile, ma anche viceversa. Cioè dove la corruzione in qualche modo esiste, le mafie siano in qualche modo attratte come un polo di attrazione per le mafie. Io una vicenda che ho letto di recente di un appalto alla quale era interessata un'impresa che ha anticipato una tangente per una ristorazione di un penitenziario, intorno ai 15 milioni di euro, ha anticipato una quota della tangente al faccendiere che avrebbe voluto versarla ai decisori pubblici e questo faccendiere si è rivelato stranamente, perché i faccendiari ci contano molto a loro onorabili, si è rivelato un truffatore, per cui in Tascata si è reso irreperibile. Beh, che cosa ha fatto l'impresa? Si è rivolta alla famiglia andranghetista locale perché recuperasse il maltolto. Cioè risoluzione delle controverse che emergono nelle reti della corruzione. Il problema è che la famiglia è andranghetista, ma qui siamo in Emilia Romagna e quindi la domanda di questo tipo di servizi, secondo me è uno di quei fattori che favorisce le migrazioni criminali. Ora, ecco, il tuo punto di vista su questo tema, insomma, sinteticamente perché sarebbe solo da questo dedicare un'intera conferenza. Non solo vorrei dedicare un'intera conferenza, mi piacerebbe parlare per ore, perché io ricordo che mi pare nel 2008, nel 2009, scrivemmo un libro sempre con Gianluca Di Feo che mi accompagna, che si chiamava I Gattopardi, in cui dicemmo che le mafie erano agenzie di servizi e ricordammo quel film bellissimo, Sono Wolf, risolvo problemi. Ed era così. Qualcuno disse che noi esageravamo, invece purtroppo la fantasia è stata molto inferiore alla realtà. Però c'è un collegamento fortissimo, ma c'è un collegamento logico. Allora io faccio una provocazione che mi piacerebbe fare con i studenti che studiano diritto penale. La definizione di mafia del 416 bis comma 3, che è stata una delle cose più importanti mai fatte nella storia d'Italia, ovviamente criticata da tutto il mondo accademico, perché io vorrei ricordare quanto ha fatto difficoltà a inserirsi quella norma, perché non c'è stato un professore in una prima fase che non ha sparato a zero quella norma, ma dicevo, quella definizione di mafia è purtroppo assolutamente superata. L'idea che le mafie siano un organismo che opera con l'intimidazione e che creano la soggettamente omertà è assolutamente superata dai fatti. Del resto la giurisprudenza ormai con vero e proprio effizio finge che c'è l'intimidazione o individua piccoli episodi di intimidazione per dire che c'è l'intimidazione mafiosa. Ma perché le mafie si hanno cambiato? Ma per una ragione evidentissima. Le mafie sono organizzazioni economiche, sono vere e proprie imprese criminali e hanno una necessità vitale di avere rapporti nelle pubbliche amministrazioni. Per una semplice ragione le mafie hanno bisogno di un elemento che spesso interessa pure moltissimo alla politica, il consenso. Le mafie vivono di consenso, le mafie senza consenso non esistono e quindi hanno bisogno di tenere consenso e hanno bisogno quindi di essere presenti soprattutto negli enti di prossimità dove si decidono le vite dei cittadini, perché le mafie risolvono a volte anche problemi banali come di dire io devo fare l'attacco dell'acqua, come devo fare? Me lo vedo io, non ti preoccupare, a disposizione. Questo significa che ci sono una serie di rete di connivenze. Ebbene, l'idea del mafioso che si reca dal sindaco, ma ovviamente dal consigliere comunale, dall'assessore o dal dirigente, perché spesso il vero problema sono le dirigenze degli uffici, non più i politici che passano. E' veramente pensare che qualcuno va là con la pistola a dire... Ma anche perché se tu un soggetto lo intimidisci, prima o poi lo perdi. Cioè, un soggetto intimidito, comunque una tua vittima, un soggetto comprato, te lo trovi per tutta la vita. Le mafie lo hanno capito da tempo. Cioè, oggi ci stiamo accorgendo di un dato che era connaturale alla logica mafiosa. Il rapporto con il sistema pubblico evidentemente si fonda sulla capacità di inserirlo dentro, attraverso il meccanismo che tu compri i favori del pubblico ufficiale. Tu lo tiri dentro. Se tu lo tieni, se tu lo minacci, comunque un corpo estraneo, comunque alla prima occasione lui si vendicherà di te. Non appena tu sarai in difficoltà ti andrà a denunciare, o comunque quando non ce la farà più ti andrà a denunciare. Il meccanismo è quello di metterli dentro e di tirarli dentro. Con una differenza enorme, però. Perché loro hanno sempre l'argomento di riserva. Cioè, le mafie, a differenza dell'imprenditore ordinario, hanno l'argomento A, la corruzione, ma hanno sempre l'argomento B. Allora, c'è una cosa bellissima in mafia capitale. Lo stavo leggendo ieri sera, diciamo, sarebbe agghiacciante. A un certo punto Carminati dice, si è andato là tutto a posto. Cioè, c'è sempre l'opzione B. Cioè, se non lo comiamo, o lo cacciamo, dice, o lo intimidiamo. E loro hanno questa grande capacità, cioè di poter comunque far intravedere la possibilità di un piano B. Dicendo, tu ti vuoi mettere con noi, ne ottieni una convenienza. Quindi, tutto sommato, partecipi pure tu alla logica della spartizione. Non ti vuoi mettere con noi, rischi davvero di farti male. Questo è un rapporto che, diciamo, chi nega o faceva finta di non vedere era già nei fatti in modo clamoroso. Ma gli amministratori locali della Campania, della Sicilia e della Calabria coinvolti in vicende di mafia non sono mai stati neanche lontanamente minacciati. Neanche lontanamente minacciati. E ovviamente questo meccanismo adesso sta diventando il cavallo di Troia nei luoghi in cui la mafia non c'è. Perché, diciamo, qui c'è un altro aspetto che bisogna far capire benissimo, soprattutto al centro-nord. Io credo che la sottovalutazione della presenza delle mafie al nord non sia stato solo un problema politico-culturale. Nel senso che c'è stata la volontà di sottovalutarlo per ragioni di immagine. Ma sia stato anche quello dell'esportazione dei criteri per individuare la mafia, i famosi alert. Noi come sapevamo che c'era una mafia in un contesto? Certo, quando ci stavano le indagini, gli arresti, ma quello era un pezzo. Quando vedevamo gli attentati, le estorsioni, i boss che per strada facevano mostra di essere presenti. Quando questi elementi non li vediamo. Diciamo, la mafia non c'è. E al nord questi elementi non ci sono mai. Non fanno estorsioni, o non facevano. Qualche volta adesso li fanno, ma molto poche. Non si mostrano come boss. Non fanno danni. Non utilizzano mai la forza di intimidazione. Allora non c'è la mafia. Io ti devo raccontare un episodio, perché, diciamo, questo è il discrimine tra mafia sì e mafia no. Fatto, diciamo, da indagini da pubblico mistero. Il clan dei Casalesi, famiglia Zagaria, comincia a operare a Parma. Il fratello del boss, Pasquale Zagaria, già condannato per 416 bis, quindi non un atta, uno che era già stato condannato per 416 bis, si trasferisce a Parma, porta le sue imprese, lui era un imprenditore raffinato, rileva un rapporto, cioè un imprenditore rileva un'impresa di Parma con cui entra in società e comincia a fare affari. A un certo punto comprano un terreno a Milano, in pieno centro di Milano, una zona dismessa, un'area ex mondatori, che devono fare un pezzo pure loro di investimento. e per comprare questo terreno devono dare una fideiussione di un milione e mezzo di euro alla banca. Sbagliano i calcoli e, diciamo, il giorno prima del contratto avevano capito che dovevano dare un milione di euro e quindi c'è bisogno di un milione e mezzo, quindi ci mancano 500 mila euro in contanti. Zagaria, l'imprenditore di Parma dice vabbè è saltato, non fa niente, dice Zagaria ma che è saltato, me lo vedo io, non ti preoccupare, chiama il suo paese Casapesenna, un paese piccolissimo, il cui reddito pro capite è reddito da paese africano, non da paese diciamo europeo, dice domani mattina mi servono 500 mila euro, banche chiuse, finanziarie chiuse. La mattina al casello di Parma arrivano in due valigette 500 mila euro. Questi soldi vengono presi da Zagaria, il quale non parla italiano perfetto, parla casalese doc, è un accento, diciamo, chiaramente identificabile. Si recano nella filiale della prima banca italiana a Piazza del Duomo a Milano e deposino 500 mila euro in contanti, lui personalmente, non qualificandosi con un altro nome come Zagaria, 500 mila euro al direttore di banca che li accetta senza neanche fare la segnalazione di operazioni sospette. Domanda, è un'operazione di mafia? Non hanno sparato nessuno, non hanno intimidito nessuno, non hanno fatto nessuna attività illecita, nessuno ha la prova che quei soldi fossero meno, diciamo, almeno in apparenza illeciti. Fra l'altro hanno fatto un'attività economica positiva, hanno inserito nel sistema della liquidità bancaria a 500 mila euro, dovrebbero meritare una medaglia. È mafia questa? È certo che è mafia, perché Zagaria sa bene dove deve utilizzare l'intimidazione e dove deve utilizzare gli altri meccanismi. Questo è il meccanismo. Quando trovi realtà che hanno l'idea, diciamo, di un utilizzo del grigio e si trova in avanti uno che ti mette 500 mila euro sul banco senza discutere, tutti in banco no dei 200 e 500, la tua disponibilità generale alla corruzione non diventa un aiuto, diventa un'autostrada? Io qui voglio sperare che ci possa essere un contributo, io credo che ci sia spesso un'interazione virtuosa tra quello che è il risultato delle ricerche, delle analisi sociologiche, politologiche, che in qualche modo cercano di individuare le trasformazioni organizzative delle realtà criminali e precisamente in quella direzione che descrivevi, cioè gli studi sull'area grigia, le sciarrone da altri, le analisi che mostrano come spesso la reputazione sia la risorsa che ha maggior peso, non serve l'intimidazione se si sa che quel soggetto ha quella valenza criminale e le cronache di mafia capitale sono straordinarie, la figura di riferimento, il boss di riferimento, basta pronunciarlo per evocare un potere che gli deriva dal fatto che c'è l'intercettazione, si tiene al libro paga mezzo Parlamento, quello è un intoccabile, potentissimo, e allora dov'è l'intimidazione nel sistema di questo tipo sfuma e in secondo piano, quindi speriamo che anche il lavoro che stiamo facendo di ricerca in qualche modo, la corruzione che è l'altro strumento principe con cui entrano in questi circuiti legati appunto al mondo delle professioni, benissimo, chiudiamo in bellezza, fin qui abbiamo dipinto diciamo un quadro con pennellate per citare Sciascia, nero su nero, ci scrissi un libro, veramente, però non è, questo paese non è soltanto la realtà che abbiamo descritto, di cui abbiamo dato ovviamente una rappresentazione per ragioni istituzionali della dimensione patologica, ma c'è anche una fisiologia di sistema, ci sono anche aree diciamo immuni, l'immagine che mi sono fatto, la rappresentazione che mi sono fatta dal punto di vista teorico, perché per sua natura le realtà criminali, così come la realtà della corruzione, sia una realtà che in qualche modo tendono a incapsularsi, a isolarsi, a creare compartimenti stagni, per cui noi abbiamo che convivono l'uno accanto all'altro un ufficio in cui tutti prendono le tangenti e l'altro in cui nessuno si sognerebbe neanche lontanamente di accettare il minimo tipo di accordo occulto con gli imprenditori o con gli interlocutori privati, quindi è una realtà sicuramente variegata. Allora il punto è come cercare di valorizzare sicuramente le esperienze positive, di introdurre degli elementi di trasformazione profonda radicale del sistema, perché la mia impressione è che piccoli adattamenti, piccoli correttivi in un contesto in cui veramente la corruzione ha messo radici così profonde rischiano di produrre poco o nulla in quelle aree contaminate. C'è sicuramente bisogno di una dimensione di impegno forte, credibile, che è anche una valenza simbolica, cioè è cambiato qualcosa rispetto a un passato in cui, dicevi giustamente, molte leggi erano criminogene, erano pensate proprio in funzione di questa dimensione di spoliazione sistematica delle risorse pubbliche. Allora io utilizzo spesso, nella parte finale delle conferenze, quando inevitabilmente afflitti, affranti dopo un'ora e mezzo a martellare sulla corruzione, sulle porcherie di questo Paese, ci dia qualche speranza, ancora tocca a noi dare qualche speranza. Io utilizzo una formula un po' vaga, dico bene, oltre alle buone leggi, alle istituzioni che si fanno carico in modo credibile dell'azione di prevenzione e di contrasto di questi fenomeni criminali tra loro intrecciati, occorre riscoprire anche una dimensione quasi artigianale dell'anticorruzione e anche dell'antimafia, cioè che nasce dal basso, cioè valorizzare le buone pratiche. Io cito, siccome non sono moltissime, l'esperienza della carta di avviso pubblico in pieno conflitto di interessi, perché ho collaborato con l'associazione che l'ha promossa, però lo dico, è un conflitto di interessi virtuoso, perché nessuno ci ha guadagnato nulla, abbiamo messo a disposizione degli amministratori pubblici e tanti l'hanno raccolto, incluso appunto l'amministrazione comunale di Pisa, questa possibilità hanno di darsi, come dire, uno strumento per segnalare la propria differenza e il proprio impegno forte e credibile su questo versante. Ma io credo che anche negli stessi piani anticorruzione ci siano elementi che permettono di valorizzare l'impegno che tanti funzionali, tanti responsabili di anticorruzione hanno messo nel produrre uno strumento efficace, che però deve essere in qualche modo, come ti accennavo prima, valorizzato, fatto conoscere e, come dire, imitato anche in altri contesti, per un tascere delle esperienze assordinarie, al pari futuro, libera. Cioè, gli esempi che poi cito sono questi, ma abbiamo fatto un modulo nel master proprio la settimana scorsa, dove anche altre esperienze, oltre a quelle di ripartire il futuro, di cittadinanza attiva, quindi quella che possiamo chiamare anticorruzione dal basso. Ora ti chiedo, in conclusione, perché non mi sono arrivati altri fogliettini, manca un quarto d'ora alla fine, quindi in questo quarto d'ora finale, di dirci quella che è la tua visione di questo percorso sicuramente lungo, sicuramente faticoso, che potrebbe portare questo paese un po' più lontano in quelle statistiche, in via di sviluppo, un po' più vicini ai virtuosi paesi scandinavi, che sono quelli che quelle classifiche sulla trasparenza tradizionalmente la guidano. Io, prima di tutto, non ho, diciamo, assolutamente nessuna idea pessimistica, tutt'altro, io credo che si possa fare, ovviamente c'è bisogno di una condizione, il tempo e, diciamo, l'idea che non ci possano essere soluzioni a breve, cioè soluzioni veloci. Io sono sempre stato convinto, lo dicevo parlando della mafia, ma così parlando anche della corruzione, ma in generale, che se qualcuno ha un problema complesso, dà una soluzione semplice, vuol dire che un genio o tutti gli altri precedenti sono degli imbecilli, perché diciamo, vuol dire che nessuno ci aveva pensato, la verità non è questa, che non esistono a problemi complessi soluzioni semplici. E poi, voglio dire una cosa, c'è un aspetto che immediatamente è l'altro lato del bicchiere, perché noi in Italia abbiamo una grande capacità poi di vedere sempre il nero, ma il nero che emerge non è che lo fanno emergere i tedeschi, cioè voglio dire le indagini di mafia capitale, non è che sono venuti gli investigatori, diciamo, tedeschi a fare l'indagine, non è che, diciamo, le indagini contro la mafia ce le sono venute a fare gli americani, anzi spesso abbiamo noi dato una mano agli americani e ai tedeschi che facevano finta di non vedere, perché poi, diciamo, noi dovremmo ricordare che certe amnesie, certe amnesie in Europa o nel mondo sono state molte maggiori, hanno dovuto aspettare le stragi, diciamo, in Germania per accorgersi che tutte le pizzerie erano gestite da mafiosi in accordo con i cittadini tedeschi. Quindi voglio dire, primo aspetto positivo, c'è comunque una capacità di reazione, c'è comunque una capacità di reazione di una parte dello Stato che quella visibile appare solo con la magistratura e le forze di polizia, ma che è evidente che c'è tutta una rete dietro, perché se tu riesci ad arrivare ai santuari di un certo tipo di criminalità organizzata, riesci tutto sommato a mettere in discussione anche un certo tipo di potere consolidato, economico, istituzionale, politico, vuol dire che c'è qualcuno che non guarda in faccia a nessuno. E su questo fatemelo dire, noi su questo non siamo secondi a nessuno. Io sono stato di recente, diciamo, in un incontro a Londra con i soggetti che si occupano di corruzione e ho chiesto una serie di informazioni a Londra avendone risultati del tipo zero, cioè non c'è la corruzione perché nessuno l'ha mai cercata, che certo lì non pagano il poliziotto, non pagano il singolo consigliere, ma diciamo il sistema della corruzione finanziaria a Londra, Londra è il centro sicuro di una parte dei più grandi fenomeni di riciclaggio del mondo e nessuno tutto sommato fa nulla perché ovviamente la grande corruzione non fa rumore, fa rumore la corruzione questa qui. Allora, prima di tutto, noi abbiamo un apparato che, diciamo, ha dimostrato di avere anche la sua indipendenza e nel corso del tempo, malgrado i tentativi più o meno di smontarli, quest'apparato ha dimostrato una sua reattività. Ma il punto vero è che se noi proviamo a lavorare solo sulla repressione non ci riusciremo mai a vincere la corruzione, così come non riusciremo mai a vincere le nafie. Il tema è che se noi pensiamo di fare la lotta alla corruzione solo contro, solo individuando nemici, senza individuare amici, la lotta non si vince. La logica sbagliata spesso dell'attività repressiva e vedere solo, diciamo, l'aspetto negativo, senza provare a pensare che, diciamo, per mantenersi nella metafora medica, quando tu fai un'operazione anche profondissima, al limite un tumore, poi però devi intervenire sul corpo per evitare che riesca, perché se poi lasci tutto così non serve a nulla. Abbiamo visto con Tangentopoli che è stata la più grande operazione di pulizia mai fatta. E quali sono stati i risultati? Lo dice Davigo, lo ammette Davigo, hanno avuto effetto di selezione della specie, hanno lasciato in campo i migliori corrotti e corruttori, hanno eliminato i scafissi, quindi ha avuto un effetto darwiniano, ma a che è servito? A nulla. Io credo che bisogna scommettere moltissimo sulle possibilità di farcela utilizzando altri strumenti, utilizzando altri strumenti che tendono ovviamente a valorizzare gli aspetti positivi dell'amministrazione, anche delle indagini mafia capitale, c'è la prova che c'è una parte dell'amministrazione che non si piega, viene mandata una certa dirigente in un certo posto e quelli dicono e come facciamo? Questa la dobbiamo assolutamente cacciare, questa non si prende neanche un soldo neanche da lontano. E lei rimane, poi è stata cacciata per la verità. Però voglio dire, c'era e non si è piegata, perché c'è gente, viva Dio che lo fa per dignità, perché ci crede, perché diciamo ha un'altra etica e ce ne sono tante. Il tema vero è da un lato fare rete e dall'altro lato provare però anche a inserire meccanismi che sono meccanismi anche giuridici o fattuali nel sistema per evitare la corruzione. Io credo moltissimo negli strumenti di prevenzione. Ovviamente prima ci siamo fatti prendere l'idea che i piani di prevenzione così come fatti non servono a nulla, ma fatti bene i piani di prevenzione e la corruzione sono una rivoluzione, che i piani di prevenzione e la corruzione consentono di valorizzare le energie migliori all'interno della pubblica amministrazione. Se il responsabile della prevenzione e la corruzione viene scelto fra i dirigenti bravi e qualcuno è stato scelto, ci fa cose veramente incredibili perché ha potiri che sono stati sottovalutati a volte anche dalle amministrazioni di appartenenza. Se util lavoriamo moltissimo sul piano della trasparenza. Noi possiamo ottenere risultati incredibili perché la trasparenza, lo diciamo nell'incontro che facciamo, la trasparenza non è chiacchiere. La trasparenza è uno strumento di controllo democratico della corruzione, ma è uno strumento che sviluppa la democrazia, sviluppa il civismo, perché l'altro grande problema è quello della battaglia culturale, cioè della consapevolezza, perché non c'è stata fino ad oggi consapevolezza che la corruzione, come dice il Papa, spuzza perché fa danni veri. Il Papa ha detto una cosa pesantissima, che la corruzione è più grave del peccato, che va persino oltre il peccato, che lui il peccato lo perdonerebbe, la corruzione no. È una cosa di una potenza evocativa fortissima, forse in un momento in cui la Chiesa ha perso un po' della sua capacità di presa sui cittadini. Però dal punto di vista evocativo, credo che nessun Papa aveva mai avuto il coraggio di dire parole analoghe, così dure, che evidentemente lui lo sa bene cos'è la corruzione. In Argentina la corruzione, forse l'Argentina sarà meglio nelle graduatorie, ma credo che i livelli di corruzione che c'è in America del Sud, sì, ma i livelli, diciamo, mostruosi, lui sa bene qual è l'effetto corruttivo sulla democrazia, sui poveri, lui dice una cosa bellissima, c'è un'equivalenza fra corruzione e povertà. È la verità. Allora io credo che ci siano moltissime cose che si possono fare e io credo che ci siano anche un po' di segnali in questo senso positivi. Io per esempio noto una grandissima attenzione rispetto alle attività che vengono fatte dagli enti, per esempio controllando i meccanismi di trasparenza. Noto un grandissimo civismo nell'indicarci, nel segnalare per esempio l'attribuzione di cariche a soggetti inconferibili, a soggetti condannati. Io credo che sta cambiando un pezzo di società che fino a poco tempo fa riteneva di essere onesta ma utilizzava l'onestà in una logica del particolare, cioè chiudendosi dentro casa e dire vabbè ma io sono onesto, non ho mai fatto niente o male a nessuno, mi comporto da cittadino perfetto, pago anche le tasse in modo perfetto, anche questo è una cosa complicata ma pure esiste, io non ho nulla di cui rimproverarmi. Oggi questa mentalità piano piano sta crescendo e io credo che questa sia la scommessa del futuro, cioè l'idea di non puntare tutto sugli arresti, su questo meccanismo che è fondamentale da solo però non può bastare, l'idea di provare a mettere in rete le parti migliori della pubblica amministrazione che ci sono, di valorizzare moltissimo gli strumenti di partecipazione civica e di lavorare per strumenti normativi che sono veramente utili. Io per esempio credo che un codice degli appalti ben fatto può essere uno strumento di prevenzione della corruzione molto meglio di migliaia di arresti, ovviamente è difficilissimo fare un codice degli appalti però fatemelo dire anche con una punta d'orgoglio. Ieri in Mafia Capitale sono stati arrestati per corruzione, diciamo, nell'ambito delle vicende di questo famoso cara, il cara di Mineo. Oggi i giornali però lo dicono, che noi quattro mesi fa avevamo detto che quell'appalto non andava bene, avevamo chiesto di revocarlo quell'appalto, non l'hanno voluto revocare, poi abbiamo scoperto che non l'avevano revocato perché avevano pagato dei soldi pesantissimi, tangenti pesantissimi. E però forse se diciamo in certi casi uno ha anche, e devo dire che forse è la prima volta che qualcuno si rifiuta di revocare un appalto quando noi diciamo non va bene, e poi ti spieghi anche perché. Che forse però, diciamo, strumenti utilizzati anche con un certo rigore consentono di intervenire sul piano della prevenzione, consentono, diciamo, di poter cambiare anche le prassi. Noi lo stiamo provando moltissimo, creando per esempio rapporti di collaborazione con alcune amministrazioni che si devono occupare di grandi appalti, provando lì avrei il segnale che un appalto si può fare in modo regolare e che si può fare anche accettando l'idea di essere controllati. Quindi io non solo non sono pessimista, sono ottimista ma di una condizione, che ci sia una disponibilità sempre più ampia dei cittadini a capire che quello è un problema a chi li riguarda in prima persona. C'è ancora qualche minuto, è arrivata una domanda. Io, come, diciamo, assunto di quello che ci siamo detti oggi, mi vengono in mente le parole di Gustavo Zagrebelsky, che nel manifestazione del 2 giugno, alla vigilia della seconda tranche dell'inchiesta di Mafia Capitale, che in un breve ma straordinario discorso ha detto che, parole testuali, stiamo vivendo il tempo della corruzione, come tutti i tempi, anche questo tempo che pure ci sembra interminabile, perché lo viviamo forse da troppo, mi viene da paragonarlo a quella rappresentazione che è detta nel 1981, Enrico Bè, della questione morale come il centro del problema italiano. Rimane il centro del problema italiano. Forse questo è veramente il tempo della corruzione, ma come tutti i tempi è destinato a finire. Quindi, no, sicuramente, sicuramente. Allora, una domanda che veniva posta, last minute, quindi siamo ancora nei tempi, non la leggo ma la riassumo, lei comincia la discussione nel suo libro con questa affermazione. A volte ho più rispetto dei casalesi che dei colletti bianchi, che è chiaramente un'affermazione provocatoria, che ha spiegato con la riconoscibilità del nemico camorrista, che in qualche modo, in un caso è chiaramente identificabile, nell'altro invece opera in modo per certi versi più vile, camuffandosi e inserendosi in un contesto di difficile distinguibilità. Allora, eppure la corruzione, poiché sarebbe un fenomeno occulto, sintetizzo, periodicamente si manifesta, cioè emerge di norma attraverso le inchieste giudiziarie. In altri paesi a volte ci sono anche inchieste giornalistiche, in Italia è abbastanza sporadico che uno scandalo emerga grazie al giornalismo d'inchiesta. Però stiamo formando un po' di studenti che magari tra qualche anno qualcosa faranno venire fuori. Poi si cita Mani Pulite, Expo, Mafia Capitale, poi nel 2008 il governo Prodi è caduto per il passaggio in altri schieramenti di politici che hanno ammesso di aver ricevuto tangenti, per un processo che a breve si prescriverà. Ecco, dinanzi a tutto questo, quanto conta nella lotta alla corruzione, da un lato la memoria corta, che storicamente sembra caratterizzare la società italiana, in cui ci si indica e ci si impegna, poi si getta la spugna con gran dignità, per citare la famosa canzone di De Andrè. E dall'altro l'impunità quasi matematica per chi si macchia di questi reati, perché noi non l'abbiamo citati nel dettaglio, però le statistiche sul rischio di condanna per reati, non solo di corruzione, più in generale dei crimini ricordativi, anche in Italia vedono effettivamente molto elevate le aspettative di impunità di chi si macchia di questo tipo di reati, che invece causano un costo, come dire, creano poco allarme sociale finché non emergono, crea molto più allarme il piccolo scippo, però Davigo, credo anche nella lezione che ha fatto qui da noi, ha ricordato quanti scippi occorrono per creare un danno come quello da Parmalat, quante migliaia di anni uno scippatore deve operare quotidianamente per creare alla società lo stesso danno creato dal crack Parmalat. E poi confronto a lei che procura quel crack, peraltro a sua volta fondato su un tessuto di corruzione capillata, allacciato nel corso del tempo con tutta una serie di decisori pubblici, quindi anche qui c'è questo intreccio fra le diverse forme di criminalità. Questa è la domanda, è molto stimolante, abbiamo quattro minuti per chiudere l'orario, ma possiamo sforare. Ci provo, diciamo, ovviamente io comincio il libro con quella provocazione che però è anche un tentativo di discontinuità, che nasce proprio dal resto della tua considerazione e dalla considerazione di chi ha fatto la domanda, la sottovalutazione che c'è stata clamorosa nei confronti di chi è stato condannato per fatti corruttivi e ti devo dire, io non sono, diciamo, non mi entusiasma l'idea di dire non stanno in carcere, non me ne frega proprio nulla che stiano in carcere, per quanto mi riguarda il tema vero sarebbe quello di chi condannato per corruzione viene allontanato dai luoghi degli affari, cioè tutto sommato il carcere, diciamo, come punizione non è mai stata una cosa che mi ha entusiasmato, il carcere dovrebbe essere uno strumento di rieducazione, il criminale dei colletti bianchi non deve essere rieducato, è educatissimo. Dobbiamo tenerlo fuori, dobbiamo tenerlo fuori dagli affari, dobbiamo evitare che un soggetto del genere possa fare, diciamo, quello dico per paradosso, il ritorno del pedofilo nell'asilo, perché è la stessa cosa, eppure non è successo così. Che cosa abbiamo visto a Expo? Due soggetti condannati con sentenze passate in giudizio, i cui nomi non erano nomi minori, entravano nelle stazioni appaltanti, si occupavano di appalti pubblicamente, avevano fatto anche un circolo in cui si facevano attività di lobby, entravano nei partiti politici, si incontravano con politici di primo piano, andavano a parlare di lavori pubblici. Nessuno diceva, scusa, ma tu chi sei? Ma a che titolo vieni qua? Questo è il punto. Io non credo che sia il problema del senso di impunità, io credo che sia l'assenza di un senso di stigmatizzazione sociale. Se un pedofilo viene arrestato e poi per una serie di ragioni viene scarcerato perché è infermo di mente. Ma voi pensate che viene accolto nella società in modo tranquillo solo perché non è andato in carcere? Ma veramente vogliamo fare. Pensate che un soggetto scarcerato per pedofilia, per qualunque ragione, per decorrenza termini, torni e stia normalmente nel suo paese riverito e rispettato come al limite al giorno prima quando nessuno lo sapeva? Assolutamente no. Io credo che si debba guardare dalla possibilità di essere linciato. Ovviamente non mi auguro che nessuno sia linciato, neanche il pedofilo. Però noi abbiamo abusato al contrario, sottovalutando assolutamente certe vicende e anzi quasi comprendendole. Abbiamo pensato che corrotti e corruttori sono un po' più svegli degli altri, persone in grado di risolvere problemi in modo intelligente, utilizzando strumenti alternativi. Io credo che questo è una battaglia soprattutto culturale. Poi certo, il senso di impunità è rilevante, ma non è il senso di non andare in carcere, è il senso di non essere condannati. Perché a me, ripeto, non me ne frega nulla che non siano in carcere. Devono essere condannati, devono essere confiscati i beni che sono cose molto più efficaci rispetto alle condanne al carcere, non ho mai fatto bene a nessuno. Che al limite, diciamo, lo fa uscire anche con un consenso. Perché questa gente quando va in carcere diventa veri e propri leader in quei contesti ambientali, quando escono, diciamo, escono ancora più ringalluzziti. A me non interessa che siano carcini, a me interessa che cambi la mentalità nei confronti di chi ha fatto questo soggetto. Il Presidente del Consiglio un giorno ha utilizzato, diciamo, una frase bellissima, il DASPO, che ovviamente era una cosa molto scenica, ma il risultato dovrebbe essere sostanzialmente quello. Poi nelle leggi questo DASPO non c'era molto, detto con franchezza. Ma l'idea è quella. Basta occuparsi chi è stato, si è macchiato di certe cose. Deve stare lontano anni luce dai luoghi in cui si fanno affari. Si mettesse a fare un'altra cosa, io credo nella funzione della rieducazione, ma sia lontano dagli appalti, sia lontano dagli enti pubblici. Questo è il meccanismo, ma questo si è verificato grazie alla nostra sottovalutazione. Il signor Frigerio è stato rieletto in Parlamento utilizzando un nome di battesimo falso ed è rimasto per quasi un anno prima che fosse dichiarato decaduto, perché era ineleggibile. Ma è stato eletto, diciamo, e quando si è presentato in Parlamento lo sappiano tutti chi era. Non è che è uno che si è presentato con la maschera dai soliti noti. Si è presentato con la sua faccia, che tutti conoscevano in Parlamento. Nessuno ha detto, scusa, ma tu sei stato condannato per corruzione? No. È stato un anno a fare il parlamentare, chissà in quale commissione era. Sarebbe divertente pensare se fosse stato messo persino in Commissione giustizia. Io dovrei dare il triplice fischio di chiusura, visto che abbiamo iniziato con un calcio di avvio dell'incontro, quindi lo concludiamo con questo applauso. Vorrei, come elemento unificatore, l'abbiamo evocato più volte, le parole straordinarie sempre di Papa Bergoglio, che secondo me nel dibattito pubblico è quello che, ora anche il Presidente Mattarella sta dicendo le cose veramente, come dire, molto profonde sul problema della corruzione, però Papa Bergoglio è quello che ha parlato ad esempio del pane sporco della corruzione che i corrotti portano a casa. E allora diciamo che il senso dell'incontro di oggi è stato quello di dare qualche elemento forse per riconoscerla un po' questa sporcizia, quando, come dire, ce la troviamo intorno e l'annunciamo nell'area e quindi come cittadini anche impegnarci, o quale che sia il nostro ruolo, naturalmente anche l'Università deve assolutamente fare la sua parte in questo senso, impegnarci in questa direzione. Io ringrazio davvero di cuore il professore, non so se chiamarlo dottore, forse professore in questa serie, dottore Presidente Cantone per il tempo che ci ha dedicato e veramente per le cose che ci ha insegnato oggi. E speriamo di rivederla a Pisa, diciamo, per darci una nuova lezione e buone notizie su quello che è il lavoro dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Grazie a voi anche di essere stati qua. Grazie.